avviamola diretta buonasera a tutti ma buonasera l'intrasatta insomma ma l'infra max qua non fanno che vuol dire all'intrasatta all'intrasatta sarebbe all'improvviso dai senza preavviso ah pensavo l'intrastat voi non sapete l'interstat all'interstate sì l'interstate l'intrasatta è quello per pagare l'iva comunitaria quando fai acquisti fuori 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 italia dentro EU allora EU squarespace chapters intro e chi l'ha fatta l'intro fa niente fa niente lo sappiamo che sei un grande improvvisatore introista introietta ciao Luca Luca come si fa a cambiare il titolo di una diretta su twitch qualcuno di voi più giovani lo sa personalizza il canale edit puntata la digitale.fm puntata live di che parliamo che tastiera c'ho parliamo di platforming poi di che parliamo twitter le policy di whatsapp di qualcos'altro parliamo non lo so sono concentratissimo scusa che sto scrivendo l'intro e nell'intro dirai che non avevi preparato l'intro e scopriremo l'inganno che tu ogni volta prepari l'intro ma ci scrivi che non l'hai preparato ma non è vero non è vero quando dico così perché davvero non l'ho preparato e vabbè insomma questo è lo scelto adesso dirò che ho preparato l'intro così si e questa sera con l'intro pronta e che vuoi fare allora vedo gente che acclama Max dove è la chat? qua come acclama Max? buonasera quanto tempo prof è vero ragazzi mi stanno esautorando siamo deplatformizzando il professore ciao Vincenzo anche buonasera silenziate il Simon Prof il nuovo hashtag mi metti quel link dove si potevano seguire tutte le chat della diretta non è arrivato su Slack eccolo lì sì è arrivato sono scemo io non succede niente non succede niente no ma è noto da tempo esatto vabbè e l'acqua è bagnata cosa dobbiamo seguire? lo Slack e le chat e OBS Ninja ciao Marco ci serve l'ostaggista ci serve un ostaggista come va il traffico? mi vedi? il traffico diretto chiarissimo perfetto la voce del professore è tranquillizzante per me Max fai lo stesso effetto anche sui tuoi studenti o li tieni più sulle si 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 addormentano si addormentano puntualmente molto bene Max dica hai più hai più su internet si trovano delle cose a giorno d'oggi che non dovrebbero esserci bene signora mia esatto signora mia è così Max hai più chiesto a quel tuo collega a quel tuo collega di te questo non si può dire no sai che è successo? ho scoperto che ha cambiato azione ah ok perfetto è passato da Wind non abbiamo più però magari lo sta però magari lo sta si può fare perché si è lavorato a Telecon fino a poco fa o magari ci dà un contatto con il suo collega ti deve dei favori ti deve dei favori magari qualche suo collega esatto ok queste cose su Amazon non sapevo ci fossero è una cosa di Al Gore queste cose davanti a Max non si possano è un disco è un disco è un disco le canzoni si chiamano GTA Cowgirl Johnny and the Beach violenza violenta l'Ufnk a Italia Legna neva ma l'Umber Jack and I'm ok 3 euro e 99 non lo compro compra no recensioni grande Alfredo davvero un bel fungo e l'altro illustrativo ho imparato molto vabbè siamo a posto possiamo dire di cosa stiamo parlando perché sennò ci bandano da internet proprio è Al Gore è lui è Al Gore allora la notifica push ci manca allora per la notifica push bisogna mangiare mandare Google Chrome perché Safari non riesce ad aprire il situs poi ah c'è Ann prima di Al Gore cosa stai forse dicendo Ann Al Gore nella url nella url nella url non c'era quella che poi sembra tipo gli scherzi delle facili che faceva che faceva Bart Simpson quando chiamava Bo Sinslack c'è Gore An Al Gore vabbè vabbè scusate è della serie che ha chiamato Kitty una certa decadenza che belli i Fabrizi che anche quando non sono i primi due a entrare nella chat salutano sempre insieme in coppia come BB e Bibo in coppia come BB e Bibo vabbè Pinco Panco e Panko Pinco vale del famoso balletto ma che chat state leggendo che pare più divertente no stiamo leggendo quella nostra interna Marco dove c'è chi è che è stato il primo Francesco no ah ok dove c'è Franco che ha postato non saprei neanche come dirvi di cercarlo allora animale divinità cercate su Amazon animale divinità bambini explicit dove animale divinità non è letteralmente animale divinità ma quello è bracchettato è bracchettato explicit non vi dico come le frasi racciatte vengono tagliate strano però il povero Ciri Smart ha avuto uno shock vedendoci per la prima volta in viso mi rendo conto lo so personaggi tipo Michele il Doc sono difficili da digerire ragazzi ma la digestione ancora ancora ma quando c'è quello che succede dopo la digestione è un problema vedi mi sono tolto gli occhiali così ok forse adesso i commenti sono meno tagliati se veneto tu Marco qualcun altro magari ecco Fabrizio Mele l'ha trovato molto bene ma YouTube e Twitch non sono veneti bravo Alberto esatto che qui rischiamo di fare la fine di libero allora mettiamo i gingilli in fondo ecco adesso mettiamo pure i gingilli in fondo e siamo spacciati adesso li in fondo la trasmissione li metto in fondo su Trello se avete dei titoli poi ricordatevi di metterli su Trello anche quelli che abbiamo il campetto Michele ci hai messo la data su Gingillo su Trello c'è un post di Michele che si intitola 18 gennaio 2021 e sarà il link è il link che è sempre sminchiato vabbè poi lo posso è anche interessante ma sei abbonato tu lo ascolti Bordone no Bordone non mi sta particolarmente simpatico no ma è un link di un blog non è del podcast invece noi cliccando lo finiamo sulla pagina della giornata che ti porta un elenco dove c'è solo il podcast vabbè ha sminchiato il me lo tengo lì come memento vabbè con i tiktok non so perché lì ma non aprirei proprio con tiktok che cacchio c'entra tiktok va bene con cosa apriamo ah poi mi spieghi il titolo della card di Trello quella con mamma ha perso l'aereo è un passaggio logico molto difficile ah ok non ti dice niente la scritta stedtler la spillatrice no una cosa più più comune almeno se uno non fa lo spillatore di professione I don't know what you're talking about la gomma la gomma quella bianca la gomma da cancellare a scuola la gomma non vai informato sul brand delle gomme cancellare la gomma mamma mia la gomma la gomma più gomma dell'universo la gomma gommata Marco Pasqualotto come faccio ad ascoltare tienimi bordone da Castamatic non puoi come credo per ogni podcast player non si può perché non esiste un feed rss perché non sanno come implementare il login per gli abbonati come lo ascolti tienimi bordone da web solo dal sito solo web complimenti al podcast va bene fantastico è un perk per gli abbonati no ma c'è il modo fai fai metti il nome password url nella richiesta del feed rss adesso Castamatic non lo implementa in maniera lo devi mettere nella url però la stessa cosa e fai una consulenza al post se mi pagano bene sì se no allora la notifica push l'abbiamo lanciata non vi ho ricordato di registrare ma credo che vi abbia ricordato slack se non vi ricorda slack lo ricordo io adesso abbiamo tolto il reminder l'abbiamo tolto prima delle vacanze e poi non l'abbiamo rimesso per le vacanze vado a prendere dell'h2o ma come proviamo io sicuro che stiamo partendo stiamo partendo prendi l'acqua che partiamo prendi il treno e l'acqua che scorre prego possiamo partire stavo cercando una vabbè è vicino l'acqua e vabbè non è che ho la casa con 74 stanze allora partiamo con quello così introduciamo il tema più largo la prendiamo alla larga no la prendiamo così in modo che ci arriviamo in rampa a non partire pesanti pesanti con gli argomenti cose gli argomenti pesanti polposi andiamoci leggeri e facciamoli brevi visto che roba che ne abbiamo già parlato la settimana scorsa ultime parole famose no non c'ho la superficie tattica è scappata e no non l'ho proprio montata ma no qui ci mancano i fondamentali la monto ci attacco la corrente elettrica aspetto che la tastiera comincia a funzionare diamo tempo agli elettronimi ma è sempre di fretta io ho il mio ipod touch il mio ipod touch il mio ipod ha un touch che ogni tanto si frizza il touch screen in termini di riconoscimento del tocco non di display ho fatto un reset completo eccetera lo fa di meno ma quando lo accendo subito lo fa sempre facciamo un freeze di un 5-6 secondi una roba strana mi dicono compratire fa di nuovo dico io non ho i soldi ho speso troppo ho speso eh si è comprato l'M1 eh l'M1 io costavo devo risparmiare per il monitor pare che esca il monitor quello prezzo popolare 2000 euro 2000 euro per team cook prezzo popolare 2000 euro vabbè quando vuoi voglio aspetta che cerco audacity quando vuoi e tu adesso devi aspettare cercare audatici ho tutti i desktop in giro ok ci sono dov'è la sigla intro allora vado vai due registi due Dallo studio distribuito di Gump Media Production Franco Solerio, Massimo De Santo Questo è Digitalia Settimana del 18 gennaio 2020 Senza vaccino, senza scuola, senza vacanze forse anche senza governo Ma con l'intro e soprattutto con tante notizie Quelle digitali all'italiana Dallo studio di Gure 1 di Sanremo qui è Franco Solerio Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo Dallo studio di Milano, Michele Di Maio Michele ce l'ha fatta così pesante che preparava questa introduzione Però il ragazzo se l'è cavata Il ragazzo se l'è cavata Il ragazzo se l'ha cavata Ma era un'introduzione tutta di assenza Manca questo, manca quello, c'è il governo Un po' negativa Ma con la notizia è quella digitale all'italiana Con la notizia è digitale all'italiana Non capisce l'ermetismo, non capisce Massa notizia digitale all'italiana Buongiorno a tutti gli ascoltatori Ritagliamo un pochino queste quisquiglie, queste ciance, queste chiacchiere Per dare bene Pinzillacchere Non ci scordiamo le pinzillacchere Ed è finita la trasmissione Diamo un saluto ai miei colleghi Professor Massimo De Santo Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio Chiarissimo Chiarissimo Mi ricordo Chiarissimo Chiarissimo Professore di reti di calcolatori E il dottor Michele Di Maio L'oscurissimo Oscuro C'è il lato chiaro e il lato oscuro The Dark Knight Della notizia digitale Da quando il tuo barbiere è in zona rossa Poi è una fregatura Ma io devo tornare a sorello Per tagliarmi i capelli Ah ecco, ecco Facciamo un'interrogazione parlamentare Per permetterti di Grazie Anche perché mi serve la scrivania Bentornati su Digitalia Cominciamo con Soft Maniere creative di utilizzare L'intelligenza artificiale Vi ricordate GPT3 si chiama L'algoritmo Quello che scrive meglio di me Di te E ci vuol poco E anche del re E anche del re E anche del giornalista Utilizzati in una maniera creativa Sapete che negli Stati Uniti Quando devono fare una legge particolare Eccetera Chiedono sempre Ai cittadini di commentare E dove chiedere di commentare Ma sul web Per Dio L'abbiamo inventato noi E quindi Aprono un sito Di consultazioni web A riguardo al tema Vi sembra giusto Che cambiamo la legge Sul picco pallo Eccetera Hanno pensato bene Di inondare Le richieste Con testi Creati da GPT3 Va beh Non è che hanno pensato Di inondare No Hanno scoperto Il solito ricercatore Perché poi La cosa bella È che c'è sempre Un ricercatore americano Che fa Decide di Sottoporre a test Ma è sempre La tradizione È sempre Lo stesso Non lo so Comunque questo Giovanotto Ha detto Ma vediamo Che succede Se provo A far inondare Mi pare che si parlasse Di medical aid Qualcosa del genere Insomma Una cosa quindi Medicare Roba di Sì Roba di Cosa non banale Soprattutto negli Stati Uniti Dove sappiamo Che le vicende Della copertura sanitaria Non sono Non sono trascurabili E allora Giovanotto ha detto Ma vediamo un po' Ma riescono a distinguere Se per caso Io gli Genero un po' Di commenti Attraverso appunto Un sistema Di intelligenza artificiale E la risposta Di Doverete Un po' È Sì Non si riesce A distinguere Non si riesce A distinguere Non solo Lui a un certo punto Ha anche messo In coda Ai messaggi Quando si è reso conto Che la cosa Non Non Poteva Scivolare Nel pericoloso Ha messo delle Righette finali Dei suoi commenti Dicendo No guarda Questa cosa Scritta Dall'intelligenza artificiale L'ha segnalato Al sito del governo E che cosa È successo Niente Rimasti In là i commenti Eh certamente Il Può diventare Un problema Ovviamente Nel momento In cui devi far Pendere L'ago da una parte O dall'altra È ovvio Che queste Consultazioni Non hanno carattere Di voto Ma hanno carattere Di indirizzo È ovvio Che un politico Nel momento In cui vede Diecimila Messaggi Che pendono Da una parte E dieci milioni Dall'altra E il problema Ovviamente È lo squilibrio No L'intelligenza artificiale Può produrre Questi messaggi A un ritmo Vertiginoso E quindi Sovvertire Un po' Un meccanismo È un po' Come scegliere Le leggi Sulla base Dei trend topic Su twitter Alla fine Ok A parte che non è detto Che dietro twitter Ci siano necessariamente Degli esseri umani Però prendi un campione Assolutamente poco rappresentativo Che magari Mi risulta facile Perché è lì È come scegliere Quali serie tv Finanziare Quali libri Far comparire Su amazon In base ai trending topic Di twitter Cosa potrebbe mai andare male Ma questo è un regomento Di cui Possiamo parlare Un po' Più La trasmissione Non era successo Qualcosa in Italia Con gli emendamenti Qualcosa del genere In Italia Con gli emendamenti Allora se ho capito A cosa stai facendo riferimento Qualche anno fa Il senatore Calderoli Se non ricordo male Si vantava Che lui poteva Submittare Scusate per l'inglesismo Submittare Siamo Poteva Presentare Degli emendamenti A delle leggi Ingolfando Il lavoro Del Parlamento Usando una funzione Di word Che generava Tipo dei riassunti Quindi lui scriveva Tipo una volta L'emendamento E fondamentalmente Se ne avevamo già parlato Se ne avevamo parlato Ma stiamo parlando Dei anni fa Si 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 Con riassunto di word Però Riassunto di una cosa Però comunque Dal senso grammaticale Però era l'antena Era un precursore Di quello che è successo Qui genera da zero Tu gli dai il tema Gli dici Parlami male Del professor De Santo Esatto E ciumigliaia Di come Utilizzando Di Dante Alighieri E lui ti fa Le terzile E la rinforzata E certo Certamente Finisce male Vabbè Viste che siamo Oltreoceano Poi siamo tornati di qua Adesso ritorniamo di là Oggi è tutto Un attraversare l'oceano Sono venute fuori Un pochino Di retroscena Sulle decisioni Di Di bannare Trump Da Twitter Sì Allora Permettimi qui Di citare Proprio Il primo paragrafo Dell'articolo Del New York Times Jack Dorsey Il chief executive Di Twitter Stava lavorando Da remoto Su un'isola privata Nella Polinesia Frequentata da celebrità Che vogliono scappare Dai paparazzi Quando Una telefonata Lo ha interrotto Il 6 gennaio Cioè ragazzi Voi Altro che Southern working Ecco Ecco Perfetto Vedi Vedi Dice già Stiamo sbagliando Le nostre democrazie Sono in mano A dei miliardari Arricchiti con la pubblicità Perché hanno avuto Una bella idea Oramai 20 anni fa 15 anni fa E che se ne stanno Lì lì A decidere In un resort Nella Polinesia Francese Ma certo È giusto così Con la barba Quando Platone Ha scritto La Repubblica Si immaginava Proprio questo Che non sapeva Né cos'era la Polinesia Né cos'era la Francia Però Non importa Però Pensavo ad altre isole Diceva sempre Ton Polinesi Ton Francon Polinesion Diceva Esattamente La tua ritmica greca Proprio Meravigliosa Ragazzi Ho fatto lo scientifico Non vi posso seguire Però Anche io Quindi Jack Dorsey Riceve La telefonata C'è anche una notizia Dopo Scusami Scusa Ti sei fermato Su l'Incipit Che era molto Preto Non si è passare avanti Per me No Allora Riceve la telefonata E L'ha detto Alla Alla Moderazione E alle policy Dei contenuti Di Twitter Gli ha detto Oh Guarda Non ti trovavamo Eh sì caro Ero nell'idromassaggio Fa rumore E va bene Tanto che non ti abbiamo trovato Abbiamo bannato Trump E Jack ha detto Ah Come avete bannato Trump Al solito Non sono così d'accordo Nel bannale Nel bannale Trump Infatti Negli anni scorsi Nei mesi scorsi Abbiamo messo etichette Di qua e di qua e di là Questa era la mia policy E al che Viaggia Viaggia Gad Ha detto No guarda che questa volta La situazione è seria L'abbiamo L'abbiamo davvero L'abbiamo davvero bannato E E Al che Jack ha detto Ok Va bene E l'ha tornato Probabilmente Visto che l'avete bannato Ormai Oramai la cosa è fatta Infatti poi ha scritto Una Una serie di tweet Dove diceva Credo che Per Twitter Questa situazione Per questa decisione Sia stata quella giusta Ma È una strada Molto pericolosa Ecco Ho avuto metterlo Con la testa sott'acqua Nella vasca E dromassaggio Per Per riuscire a bannare Trump Probabilmente Da quello che Traspariva Dall'articolo Se fosse stato Invece che in Polinesia A centrale di comando Probabilmente Avrebbe messo Di nuovo Una parolina Per limitare La situazione Nel bene Nel male Non lo so Però io sono d'accordo Che Un punto Bisognava metterlo E che verrà È una china Molto pericolosa È un po' La riflessione Generale È stata Un'eccezione Che è una situazione Particolare E che però C'è una china Molto pericolosa Da invoccare Può finire In tanti modi diversi Perché Anche in Francia Quando hanno iniziato A fare Le prime due o tre Decapitazioni Erano cose Che erano drammatiche Bisognava farle Perché non se ne poteva più Eccetera E poi alla fine Con la testa sotto la ghigliottina Ci sono finiti tutti Compresi i rivoluzionari Perché poi La ghigliottina Resta lì E vuoi non usarla Devi usarla Sennò Stiamo pagando l'affitto Che facciamo La ghigliottina La ghigliottina Non va bene Non va bene Poi non scivola Effettivamente Uno dei motivi Per cui La ghigliottina C'ha la lama Storta così È che scivoli meglio L'ha inventata Un chirurgo La ghigliottina Eh Un taglio Ma preciso Potremmo fare Un episodio speciale Sulle ghigliottine Va bene Stiamo scivolando Un po' Nell'horror Stiamo scivolando Un po' Nell'horror Assolutamente Torniamo invece Nel mondo reale Nel mondo concreto E vivo Di fatto di pietra E di terra Dei social network Forse no How facebook Incubated The insurrection Questo me l'avete Forse l'ha condiviso Michele L'ha bollinato Max Raccontatemelo Allora Anche qui Riprendiamo un articolo Del New York Times Allora Il succo qual è Il succo è È stato È stato chiuso Poi forse riapre Parler Sono stadietti Tutti i ponti Però alla fine Della fiera Quanto meno C'è una Tra virgolette Corresponsabilità Forse non è la parola corretta Però come dire Quello che è successo Due settimane fa È Accaduto Nelle settimane Nei mesi prima Si è costruito Decisivamente Non so Sicuramente Non solo Su Parler Ma su Sicuramente Su facebook In parte Poi si parla Delle chat Di telegram Però Su facebook Dove la discussione Non è Non è sempre pubblica Però all'interno Dei gruppi È Non è Come dire Non è criptata End to end Questi Tutti i segnali C'erano già Nelle pagine Delle persone Che poi hanno Partecipato Alla All'attacco Come lo vogliamo chiamare Alla manifestazione All'attacco I sintomi C'erano C'erano già Perché è stato È tolto Parler Dagli store E non è stato tolto Facebook Quando appunto La responsabilità È quantomeno Dello stesso Della stessa entità L'articolo in più Aggiunge Un Come dire Una fotografia Abbastanza lucida Ed esplicativa Di come I meccanismi stessi Nei social Questa pure è una tematica Che abbiamo Discusso tante volte Da tanto tempo Però sta diventando Sempre più trasparente Ed evidente Perché riporta Mi pare tre casi Che sono sostanzialmente Dei casi In cui Le persone coinvolte Hanno finito Con Cambiare drasticamente Il loro profilo Facebook In poco tempo Pur di Guadagnare Loro popolarità No? Quindi Diciamo L'articolo Suggerisce Con una certa chiarezza E nelle interviste A queste persone Viene fuori Con una certa evidenza Che In realtà Loro Non hanno appoggiato Davvero Questo tipo Di Discorsi Trump E tutto il resto Se non Per la ricerca Di una facile eco E di una facile visibilità Perciò Diciamo La responsabilità È ancora più grande Perché sono Gli stessi meccanismi Con i quali funzionano Questo tipo di algoritmi Esattamente Che spingono poi Le persone In cerca di successo A sposare I trending topics Dai Diciamo che Però Gli esempi che fa Sono Esempi di persone Non particolarmente Rappresentativi Dell'umanità In generale Descrive Un ex dipendente Di BuzzFeed Se non ricordo male Che era stato Assunto Ma quel è l'altro articolo Però Sì Il punto era Quella No Il caso C'erano Persone Abbastanza vuote Per quello Che riguarda Convinzioni politiche Non me ne frega Niente la politica E con Un quasi patologico Desiderio di approvazione Da parte del prossimo E del pubblico O addirittura Una voglia Imprenditoriale Di sfruttare il successo Perché ormai È chiaro Che chi ha Centomila Followers Sul social Non è facile Tante volte Distinguere Quei due aspetti Non è facile Distinguere Perché vanno Di pari passo E perché alimentano Uno o l'altra cosa Però certamente È un Pur essendo pochi Perché ovviamente Elementi così Non sono All'ordine del giorno Probabilmente Però rischiano di Prendere una china Fanno un po' Da accumulatori E amplificatori E messi Nei posti chiave Ne bastano Un certo numero Critico Abbastanza basso Per costruire Tutta una Eco chamber Dove Ovviamente Fanno Emergere Questo tipo Di tematiche Ci sta È un'analisi Abbastanza interessante Ed è un'analisi Che poi vale Per realtà Per qualsiasi Categoria di prodotto I famosi Influencer Dare L'azienda Di trucco Che da Sì Magari Sponsorizza Anche per bei soldi Kiko Makeup Non so neanche se esiste ancora Però magari Da Un prodotto Quindi A costo molto basso A magari Chi ha 5.000 follower 10.000 follower Che non ti fa i grandi numeri Però Moltiplicato Per un Un investimento Basso E per Il proprio Following Anche perché Spesso questi Piccoli influencer Hanno anche più Forza Di quelli più grandi Perché quelli più grandi Oramai sono Come dire Quasi a livello Di celebrity E quindi Magari spesso Sei diffidente Mentre invece Quando hai pochi follower Magari li puoi seguire Puoi rispondere Puoi stargli dietro È una strategia È una strategia estremamente Efficace Dal punto di vista Del marketing Sì E quindi Da qui si spiega Questo Quello che non viene mai Messo sul piatto Da Dagli ambienti Quando descrivono Se stessi Quando iniziano a fare Questa critica Di se stessi È che però Esattamente Gli stessi incentivi Che hanno Queste persone Per continuare La loro opera Di Chiamiamola Disinformazione Chiamiamola Contrainformazione Chiamiamola La disseminazione Di fake news Chiamiamola come vogliamo I loro incentivi Si allineano Assolutamente Con gli incentivi Della piattaforma Ed è questo Il problema Ed è questo Il problema In grosso Cioè Non solo A facebook E a twitter Non gliene frega niente Che il contenuto Di quello che twitti Ma loro Guadagnano di più Quando questa gente Tira fuori Questi argomenti polarizzati Quando 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 tutti corrono Su twitter Perché tutti Devono commentare Hai detto una cazzata No sei Non so Ma tua mamma Eccetera Cioè Il problema È questo Stiamo esplorando Abbiamo esplorato Negli ultimi anni Un angolo oscuro Della psicologia umana Nel momento in cui Si rapporta con questi media Che non era mai stato esplorato E ora è il caso di Visto che l'abbiamo conosciuto E abbiamo capito Che è un angolo molto oscuro È ora di cercare Il modo di Mettere una pezza Trovare 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 un punto di equilibrio Esatto La cosa più difficile Un altro articolo Esattamente Cioè Richiama proprio Come addirittura Nella parabola iniziale Di Trump Si siano incrociati Questi interessi No Che Trump era uno Che usciva dal successo Televisivo Cercava di attirare Attenzione E Twitter stessa Ha avuto Una grande Ma c'era Ma c'era Vabbè Michele ha messo un post No Da Facebook Vicino Al Vicino Ai post Che incitavano Alla rivolta Eccetera Ci metteva la pubblicità Dell'attrezzatura militare Ragazzi Scusa Al grado Perfetto Che ci volete Va bene Però Cioè Capito No ma infatti E qui è tutta l'ipocrisia Cosa ci stiamo raccontando Appunto Appunto Ci guadagnano ragazzi Di queste cose Ci guadagnano Certo Certo Airbnb Si sfila E non ti lascia Prenotare Perché oddio I cattivi Si stanno per riunire A Washington Si sa come va a finire E allora Il loro Il loro Manager Della reputazione Gli dice No guarda Lascia stare Se si vede Che la gente Che ha fatto Il casino A Washington Eccetera Si viene a sapere Che ha dormito Da Airbnb Passi da collaborazionista Certamente Sicuro Sicuro Guarda un po' La Bayer Che faceva Lo Zicom B Per i nazisti Che ha fine a fatto E' ancora qui Che ci vende L'aspirina Beh ma avevo letto Era passato Sono un baglio Su Techmeme Che anche Tinder E adesso Non sto scherzando Aveva bannato Dalla piattaforma Non so se Quelli geolocalizzati Durante L'attacco O quelli Che avevano messo Foto Di loro Dentro Ci deve essere uno studio Forte Importante Sotto Vuol dire Che hanno stabilito Che questo tipo Di comportamenti Ha una componente genetica E quindi loro Riducendo le chance Di riproduzione Di queste persone E ci pensano Di risolvere il problema Riducono il rischio Che quei Grazie Franco Trovai Viene sempre fuori Quest'anima del doc Che giustamente Vide Nel futuro genetico Della nazione Ma no Ma no Sono banalmente Persone normali Sono persone normalissime E' stato bello Il caffè di Grammellini Quello che descriveva Altizio Il capo L'ho odiato L'hai odiato? L'ho odiato Dal più profondo Perché l'hai odiato? Raccontami Allora La prima cosa Allora Se tu sei il vice direttore Del Corriere E non E ti pensavi Che il movimento Di quindi Quelli che seguivano Che hanno seguito Che hanno fatto I fatti del 6 gennaio Che erano lì E che erano Quelli che I cosiddetti White trash Quindi gente Che mangia Pronto solo da McDonald's Che va in giro Col pick up track E con la banda in testa Allora forse A parte Uno Magari segui di più Francesco Costa Che te lo spiega Te lo spiega meglio Due Non E appunto Non hai capito bene Quel movimento Perché c'è gente Che a Washington C'è andata Con l'aereo Con l'aereo Ma non ha quel senso lì Ma non ha quel senso lì A parte che puoi Puoi andare Sull'aereo privato E esterminare E esterminare Mandre di buoi Ogni volta che vuoi Farti una bistecca Il concetto Era semplicemente Che le persone Non sono O completamente Cattive O completamente buone O cosa E che fare Delle Ultracategorie Come si tende a fare In questo momento Che il cattivo Deve essere Di destra Deve odiare i bambini Deve mangiare bistecche Deve ruttare Scorreggiare molto Per fare il buco Nell'ozono E aumentare L'edire carbonica Non ha senso A volte A volte Il più spietato Di tutti Mangia vegano A volte Il più cretino Di tutti Il più boccalone O quello più efficace Nell'aizzare la gente Per andare dentro Al coso È un Cristo Vegano Che se non gli danno A mangiare biologico Dice di star male Magari sta male davvero E fa la protestina E fa lo sciopero Della fame È semplicemente Un ritratto Dell'umanità Ed è un dire Che fare Semplicemente Queste categorie Buoni di qua E cattivi di là È sbagliatissimo Non ha nessun senso Io l'ho interpretato così No no Ma il senso È quello Ti parlo principalmente Della forma Però Non mi hai fatto poi Di tirare fuori Greta Thunberg In ogni articolo È lo stesso concetto È lo stesso concetto E ti viene il fegato marcio Ma è vero Uno può essere di destra E apprezzare Greta Thunberg Prova al sol Tante persone Verrà l'orticaria L'idea O uno può essere di sinistra E odiare l'ambientalismo Perché le persone Dovrebbero Sarebbe più sano Coltivare questa cosa Che non devi essere Tutto omologato Che se sei di sinistra Se ti piace la letteratura E la cultura Sei di sinistra Mentre se sei di destra Sei un ignorante Arrogante E rozzo E non ti frega niente La cultura Cioè sono categorie stupide La gente è complessa Il mondo è complesso Ed è il bello dell'umanità Il fatto che è complessa È complicata E a volte anche Come dire In contraddizione con se stessa È giusto Fa parte della natura umana Tutta la cultura Tutta la storia della letteratura Ci insegna queste contraddizioni Che sono dentro ogni individuo Per cui dire Fare categorie Che è quello che fanno Facebook e Twitter È sbagliato È sbagliato Poi che stia antipatico Per tanti versi Stia antipatico anche a me Grammellini Però il concetto Il protagonista di Home Alone 2 In realtà anche di Home Alone Home Alone è Mamma ha perso l'aereo Ricordo male Certo Corretto Ha tweetato il suo supporto A fan che chiedevano di rimuovere il cameo di Trump Il cameo di Trump all'interno del film All'interno di Mamma ha perso l'aereo 2 Non lo sapevano mai C'è un cameo di Trump Che si è infilato a forza nel film A quanto pare Perché volevano girarlo in questo albergo Royal Palace Plazza Pinco Pallo di New York Non lo so Sono andati a chiedere L'albergo era Forse ancora Di Trump Sono andati a chiederlo a Trump E a Trump Ha detto No L'unico modo in cui possono avere Il coso per girare il film È se io compaio nel film E allora E' andato Questo è tutto C'è il bambino che entra Dalla porta E chiede al primo che passa Dov'è la strada Per che ne so Il bagno Non mi ricordo Eccetera E c'è Trump che gli dice Guarda è di là E fa passare E ci sono questi meme Che girano in giro E che scancellano Trump E ci mettono al posto di Trump Mettono chiunque Da Darth Vader A Michele Di Maio Che gli dice vai di là Purtroppo l'albergo non è mio Hanno tolto Trump Ci hanno messo Obama Ci hanno messo Biden Ci hanno messo Ne ho visti un po' Farò anche abbastanza ridere Farò anche abbastanza Va beh Fa anche ridere un po' la richiesta Eh vabbè Ma niente Ma niente Ma niente Comunque Vai Trump Dappertutto E appunto Dovrebbero inventarla Però un'intelligenza artificiale Che ti toglie Ti detrampizza Il feed Il feed della televisione O dei film Non sarebbe male In automatico In automatico Certo Sei proprio cancel Sei proprio starter Era al cento per cento Tu No vabbè Si scherza Si scherza Non lo Sì perché Sennò poi anche tu Ti stai fai Categorizzando troppo No no ma infatti Parlando della Parlando della Della cosa Nello specifico Non me ne può fregare di meno Di quello che dice Un tipo Che ha chiesto A Macaulay Culking Che tra Adesso come dire Non so se voi vi siete persi Probabilmente gli ultimi vent'anni Di Macaulay Culking Che non sono stati proprio Dei migliori Fatti Dei più edificanti Esatto Dei più edificanti Tipo un paio di anni fa Aveva fa Lui poi è diventato podcaster Perché ovviamente Chi non è più podcaster E i giorni diventano podcaster Esatto Non sei nessuno Dopo c'è l'eroina L'unica cosa più bassa E diventi podcaster O muori O diventi podcaster Tipo per lanciare Un po' il suo podcast Aveva aperto Un contest Per decidere Il suo secondo nome E il pubblico Ha deciso Che si doveva chiamare Macaulay Macaulay Culking E quindi lui è andato Al comune Dove si fa E ha cambiato Suo nome Macaulay Macaulay Culking Gli poteva andare Molto peggio ragazzi Gli poteva andare Molto peggio Quindi di questo Stiamo parlando Non mi sto appassionando Particolarmente Devo dire Quindi non la vedrei Come appunto Un cambio generazionale Dal profondo valore E significato Ma no Ma no Ma ci mancherebbe È che in questo periodo Ha ovviamente Dei grossi richiami Alla cancel culture E allora E allora ci sta Ma non è niente Di tutto questo Eh certamente Certamente Se poi Se si limita A creare dei meme Del genere Sono fantastici È bellissimo Fanno ridere da matti Poi Quando il gruppo di turno Dice Cioè sì Bisognerebbe farlo A tamburo battente Andare a eliminare Trump Su tutta Su tutte Le espressioni Di letteratura E cinematografia Dall'inizio dei tempi Uno dice Ma forse Magari Un pochino di meno Viste che siamo Nella Cancellazione Invece Vi ho messo Un paio di articoli Riguardo al fatto Che poi Tante volte Cancellare Serve a poco Cancellare in questo caso Non in termini Di cancel culture Ma in termini Di censura Di blocco Abbiamo visto Il blocco Di Parler Abbiamo visto I blocchi di Facebook Nei confronti di Trump Leggo da una parte Questo Nonostante Gli attenti I tentativi Di Facebook Eventi Gruppi Dedicati agli eventi Pro Trump Continuano A fiorire Effettivamente Spesso Diventa Diventa impossibile Andare Diventa una caccia Col topo No Una caccia Come si chiama Una caccia Il gatto col topo Lo stesso Parler Pare che Doveva essere Drammatico Perché era fatto apposta Per girare Solo su AWS Per cui una volta Bloccato su AWS Avrebbero avuto Degli enormi problemi A spostarsi In un'altra parte Pare che Ieri sera Sia tornato online Con un messaggino Con un messaggino Funziona tutto Qui ho qualcosa C'è qualcuno Da queste parti Non mi ricordo Qualche cosa del genere Forse Fa parte Di quella Filosofia Che ha poi Lasciato la sua impronta Sulla Architettura Della rete Che è nata proprio Per resistere A qualsiasi tipo Di blocco Puoi bloccare un nodo Ma alla fine dei conti L'architettura È costruita per quello Caro professore È nata solo per quello Di fatto Poi dico io Nella prima ora di lezione Di qualunque corso Di reti di calcolatori Si insegna proprio questo Cioè The Pirate Bay Ha cambiato Vari hosting Però esiste ancora In qualche shape or form Kikess Torrent Esiste ancora Ci sono Interrete pieno di siti Con materiale pedopornografico Vuoi che Parler Non riesca a trovare Un altro hosting È complicato Sicuramente E cosa si fa Non è complicato In cinque giorni L'ha fatto Poi col traffico E con l'aumento di traffico Che tutto questo Gli ha dato Perché quando poi Blocchi uno E questo qui finisce Su tutte le testate Dell'universo Carta e internet Gli hai fatto Una pubblicità pazzesca E quella pubblicità Che cosa serve Serve a venderti Perché poi Quando un cacchio Di fornitore Di contenuti Che sia in Italia Nella Polinesia francese O in Cina Che gli fa comodo Avere quel traffico E quei soldi Lo trovi sempre Lo trovi sempre Per cui Vabbè La soluzione La soluzione europea Al governo Dei social network Leggo qui Inizia Allora Vi ricordate che Vediamo Adesso ci pensiamo Dobbiamo votare No 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 Dai dai Non la mettiamo giù Così brutta Anche se Si aggancia Con quel discorso Di quel pacchetto Di misure Diciamo Digital service act E digital market act Di cui avevamo parlato Prima della fine dell'anno Promosso dal Van der Me Scusate Io ho un voto mentale Van der Leyen Come si chiama La signora Van der Leyen E lui invece È il Thierry Della vicenda Scusate L'assoluta Approssimazione Dei nomi Delle persone Che insomma Comunque Nella fine Dell'anno scorso Hanno annunciato E poi Ci furono Una serie di interviste Anche su tutti i giornali europei Anche sui giornali italiani E il 15 dicembre Hanno poi pubblicato Questi due pacchetti Di raccomandazione E qui diciamo Quindi fondamentalmente Quello che stiamo vedendo È lo sviluppo Di queste cose Che secondo me Personale parere Molto umile Da un lato Effettivamente Segnano Una coscienza Del problema Che in Europa L'abbiamo sempre detto Ed è vero È più avanti Di molte altre parti del mondo E quindi Come dire La ricerca di questo punto D'equilibrio Anche con Un intervento Legislativo Con una presenza Un po' più Attenta Degli stati E della comunità europea Sulle problematiche digitali Dall'altro lato Come aveva cominciato Franco Poi leggendo Che cosa sta succedendo Si capisce Che chiaramente Come sempre Queste cose Sono molto lente E molto difficili Da trasformare in atti Ci sono un po' Di cose alla spicciolata L'intervento In Francia Che prova A multare I giganti Del web Eccetera Eccetera Quindi ci sono questi Ecco Leggendo il titolo La soluzione europea Al governo Dei social network Viene un po' Da ridere Se uno guarda Se uno guarda A questi aspetti Di lentezza E complessità Della macchina Però dall'altro lato Secondo me Invece Sono l'inizio Di una riflessione Vera Da parte Da parte dei governi E da parte Dell'Europa Che porterà A qualche cosa Che può portare A qualche cosa Che può portare A qualche cosa Perché comunque Voglio dire La cosa che mi colpiva Di questa settimana Di notizie digitali E il fatto che In ogni caso Davvero Nell'ultimo anno Alcuni nodi Sono clamorosamente Venuti al pettine E quindi La coscienza complessiva È cresciuta Sì Se ne sta parlando Veramente tanto Se ne parla tanto E qualche cosa E se ne comincia Anche a parlare Come dire Con una Comprensione Vera Del problema Della complessità Dei legami Tra Dell'equilibrio Da cercare Tra Gli interessi Legittimi Di chi fa Commercio Affari Di chi fa Impresa E però Dall'altro lato Di che cosa Significa D'altro lento Non è un problema È un problema Che ha caratteristiche Totalmente nuove Sulla base Della Tecnologia Però Come tipologia Di problema E Michele Essendo Bocconiano Ce lo insegna No Qualunque Società Diventa Monopolista In qualche maniera Di fatto Distorce Ed esercita Un potere Improprio Per cui È necessario Un intervento Di un qualche tipo Sì perché Il problema Poi è che Sì Ve lo consiglio Perché Inizia a mettere A fuoco Proprio quelli Che possono essere Le linee di intervento Citando questa proposta Di DSA Cioè Digital Services Che ha messo a punto Appunto Come dicevi tutti Ieri Breton Che è Ammissario Al mercato interno Ai servizi Fondamentalmente Due paletti Pagare più tasse E accertare E accettare Una serie Di indicazioni Che rispecchiano Quelli che sono I valori I valori Dell'Europa Quindi Da una parte Va a colpire L'aspetto Dell'illusione Fiscale Ne abbiamo già parlato Tante volte Senza tante Web tax Del cacchio Che rischiano Solo di fare Fide filiastri E dall'altra Invece Sui contenuti Dove definisce Quello che Secondo me Rimarrà In questo tipo Di proposte Questa distinzione Tra web generico E quelli che chiama Very large Online platforms Nel momento Nel momento In cui La tua audience Becca Più del 10% Del Dell'offerta Di audience Globale Delle orecchie Del mondo Degli occhi Del mondo Dei monitor Del mondo A quel punto Tu diventi Very large Online platform E devi rispondere A delle regole Diverse Oppure Inercibiamo I controlli Poi Propone Tutta una serie Di Devi essere aperto Una volta Le singole I singoli Provider Che fossero Facebook Twitter Che siano Facebook Twitter Eccetera Devono una volta All'anno Fare Un'auto Analisi Dei loro Rischi Sistemici Devono permettere A degli Emissari Delle autorità Dell'Unione Europea Di andare A ispezionare Di arrivare In sede E chiedere Conto E analizzare Insieme Questi rischi Sistemici Eccetera Insomma Il concetto Di rischio Sistemico È una cosa Che anche Quella Probabilmente Ricordiamo C'era Che rimarrà Rischio Sistemico E che Si scrive Rischio Sistemico E si legge Donald Trump No? In questo momento Cioè è come dire Fare in modo Che dei cataclismi Come Cambridge Analytica O come quello Che è successo L'assalto al Parlamento Siano meno probabili Per evitarli Per cancellarli Ci vuole la dittatura E credo che nessuno Voglia andare In quello caso Però rendere Meno facili Meno automatici Che si inneschino Questi meccanismi È interessante È la prima volta Che si È un'azione organica È la prima volta Che c'è un'azione organica Ben pensata È anche la prima volta Che qualche giornalista Si mette lì Prende materialmente Le proposte di legge Le legge E le digerisce E le pubblica Come dire A capacità di comprensione Del pubblico generale Ovviamente è successo Sul post Che lo sappiamo E aggiungo Conrad Che si occupa E la parte della redazione Che si occupa Specificatamente Di affari europei Avevano anche un podcast Fatto Tutto fatto Estremamente bene Quando intervengono Veramente On the point Eh sì Però la Germania È così sicura Che Che si farà presto Che questa cosa Andrà in posto Che ha pensato Che ha pensato Di muoversi prima E di creare Strumenti di indagine Per la sua antitrust Insomma Riferimenti normativi Per Ovviare A questo tipo di problemi La Germania Ha varato una legge Bipartisan Sulla concorrenza Per frenare Lo strapotere Di Amazon Apple Google E Facebook È un emendamento Alla legge Sulla concorrenza Che è stato deciso Con la maggioranza Più ampia Della coalizione governante Anche i verdi Hanno votato sì Eccetera eccetera La concorrenza Deve essere protetta Qui si tratta Proprio di una legge Fondamentale Di una costituzione Per la nostra Economia sociale Di mercato Per il digitale Tenere a bada I GAFA Google Apple Facebook E Amazon Vediamo la tendenza Di creare monopoli Una concentrazione Di potere Dei grandi Nei mercati Digitali Sì Ovviamente Come dire Molto Molto bello A parole Però Allora Leggevo Andando Facendo Leggendo Un po' Anche i link All'articolo Che vi ho postato Su Tech Dirt Che la Germania In realtà È un paio d'anni Che già Ha provato A mettere il piede Nella legislazione Relativa Al In realtà A quello Che sono appunto I contenuti stessi Adesso si parla Di interventi Entro 24 ore Che potrebbe essere Appunto Il Il passo successivo Però Già C'è Questa Legge La Net Z Dove DG Non credo Che stia Per Dolce Gabbana Ma per qualcosa Per qualcosa Relativa Alla Germania E Come dire Quando è entrata In vigore Un paio di anni fa Ecco Le cose Non è che sono state Proprio Proprio Fluide Proprio Perché Si è arrivata A una situazione In cui Le piattaforme Per paura Dei contenuti Ecco Ci andavano Giù pesante Con la Con la rimozione Dei contenuti Anche perché Il Come dire La legislazione Tedesca Parlava di Contenuti Ovviamente Illegali Senza andare Nello specifico Come forse Anche giusto Che sia Perché come dire Non è una legge Che può pensare A tutti A tutte le casistiche Però ovviamente Il legale Non è forse Così ovvio Per me O per te Ecco Certo E lì L'errore Come nell'implementazione Di questi sistemi Come Come discutevamo La settimana scorsa Non deve essere lasciato All'arbitrio Della piattaforma Decidere Di cosa è legale E di cosa non è legale Nel momento in cui Una legge Non è in grado Di stabilirlo In termini numerici Cioè Se si vedono Le tette È illegale Se non si vedono Le tette È legale Serve qualcuno Che per professione Lo faccia E quel qualcuno Che per professione Dice se una cosa È legale O no Negli stati democratici È il potere Giudiziario E quindi è sbagliato Dire Io ti punisco Tu devi controllare E se sbagli Ti punisco In questo caso Deve essere Tu devi essere pronto A reagire Quando un organismo Dello Stato Ti dice C'è un'autorità Garante Della decenza Su internet Particolarmente Evocativo È molto Pericoloso Stiamo Ragazzi Chiudete Già No ma Per dire Esiste un'autorità Garante Per la concorrenza Sì Sì È chiaro Allora Ci può essere Un'autorità Garante Per I temi Sovversivi O per le fake news Nel senso della verità Pericoloso Non è il ministero della verità Non è un ministero Non è un organismo politico È un organismo della verità È diverso È un organismo giudiziario Michele Quando vai davanti a un giudice E tu devi convincerlo Che non ti doveva togliere la patente Perché non eri proprio così ubriaco Non è il ministero della verità È un giudice della Repubblica Italiana Ed è lui alla fine che decide Se la patente te la tolgono davvero Come volevano i vigili Quelli lì Sì Ministero della verità Oppure no Ed è un organo Di garanzia Della legge È del cittadino L'imputato è garantito Allo stesso modo in cui lo è La comunità Il giudizio serve a quello Ed è La soluzione più imparziale Più imparziale Che le democrazie hanno trovato A ovviare proprio Il tuo problema E il tuo problema Non lo risolvi dicendo Il tuo problema Non lo risolvi dicendo Lo deve fare Zuckerberg E se lo becchiamo Che ha sbagliato Gli diamo la multa Lo mettiamo in galera Proprio perché Per ora sappiamo Che ci sono delle questioni Molto molto sfumate Molto molto sfumate Per cui ci vuole Qualcuno che dica Lo devi togliere Poi ci devono essere Delle possibilità Di ricorso Possibilità di Chiedere a un altro giudice Se il primo giudice Può aver sbagliato E se quei contenuti Sono fondamentali Che accompagnano oggi Signor giudice Quel contenuto È fondamentale Perché ci sono le elezioni Tra due giorni Se lui me le toglie A me fa perdere dei voti E allora ci può essere Un giudice Di solito si chiamano Tribunali del riesame Che dicono Se il primo intervento E allora fa una sospensiva Dice sì La sentenza Le cose fanno così O lo facciamo Con lo sharing O che può essere Privato o pubblico O lo facciamo Con i meccanismi Che ci siamo sempre dotati Per decidere Se una cosa Era giusta O era sbagliata Corretto Ma e faccio mia La riflessione Che ha fatto Luca Soffri Sempre direttore del Post Sia sul suo blog Che poi L'ha ripetuto Se non sbaglio Su Radio Radicale Attenzione Perché se invochi Il potere giudiziario Il potere giudiziario È un'altra cosa Nel senso Che ha altri tempi Cioè già soltanto Per spiegare Tutto il processo Quanto Sì Franco Non è vero Michele Non è vero Michele Non è cazzata Perché uno No Michele Perché tu pensi Nel momento in cui si dice Il potere giudiziario A quel giudice Che si mette Lì Istituisce un processo E tu pensi Al processo civile O al processo penale Fatto di tre gradi Di giudizio Ma no Michele Perché E sei fuori Dai tempi del social No Michele Perché Perché Fa sempre parte Del sistema giudiziario Anche degli interventi Molto urgenti Molto urgenti Che sono a tempo Che sono a tempo Finché poi Il giudice Non prende la decisione Definitiva Certamente E questi tempi Li decide la legge E si può decidere Che il tempo Possa essere Quello che Il primo giudice Blocca Perché è urgente Dice C'è il rischio Che questo qui I poliziotti Hanno arrestato il tipo Ok Teniamoli in galera Per 24 Esatto Il giudice dice Convalido O non convalido L'arresto Il pubblico ministero Un altro giudice Va dal giudice Dice guardi Io ho dato L'autorizzazione Al poliziotto Di arrestarlo Per questo Per questo E per questo C'è il rischio Della fuga C'è il rischio Della reiterazione Di reato Eccetera Il magistrato Dice benissimo Confermo l'arresto Questo qui sta in carcere Fino a che non arriverà Il processo Tra tre anni Però il tipo in carcere Può fare un ricorso E chiedere al tribunale Del riesame O non so come cacchio si chiama Non faccio l'avvocato Per cui Ci sono più passati Moltiplicato per ogni posto Su facebook Allora I meccanismi Della società Democratica E i meccanismi Che impediscono A un potere Giudiziario Di diventare Uno strumento Di censura E di sopraffazione Stanno proprio Nelle regole Stanno proprio Nel rispetto Della procedura Perché è quello Che fa la differenza Perché altrimenti Vi ricordo Che organi Della magistratura Anche l'inquisizione Era un organo Della magistratura Fondamentalmente Quindi È chiaro Che la deriva C'è sempre Poi alla fine Nelle società democratiche Il punto di equilibrio Che si trova Sta Nella definizione Di parametri Procedurali Che sono a protezione Del cittadino Alcuni principi Di base Che non sei colpevole Finché non viene dimostrato Quindi la presunzione Di innocenza E così via Queste cose Che sono giustissime E corrette E che possono trovare Delle applicazioni Pratiche Nella situazione Che stiamo dicendo Scontano Necessariamente Una Lentezza Rispetto a quello Che è il fenomeno Tecnologico Che noi viviamo Cioè i social Siamo abituati In un certo modo A mettere in piedi Un meccanismo vero Di protezione E di Diciamo Di equilibrio Cioè è chiaro Che quando succede Una situazione Esplosiva Come quella Che si è verificata Appunto Nel caso di Trump C'è abbastanza facile Nel caso del Campidoglio In America E così via C'è abbastanza facile Immaginare Che si poteva intervenire Prima E che poteva essere Un meccanismo statale A farlo Nella Diciamo Normalità Della vita Dei social E del web Stiamo muovendo I primi passi Io vedevo L'ho detto in esordio Il Digital Service Act Il Digital Market Act Sono l'avvio Di un processo Complicato Che però va fatto Secondo queste regole E che speriamo Insomma In qualche maniera Costruisca Il sistema Più adeguato Alla fine dei conti Se ci fosse In ora Non l'aveva messo Mai nessuno in campo È vero È vero È vero Ma semplicemente dire Se ne occupino loro E se sbagliano La legge li punirà È il modo più sbagliato Perché Il risultato È lo stesso Della medicina difensiva Che cosa fanno Banano tutto Banni tutto Quello che puoi Anche solo Un lontano odore Di E ti levi i problemi In realtà no E poi Il peso Il peso È differente È ovvio Che se Se l'organo pubblico Deve osservare Ogni singolo tweet Che scrive Il professor De Santo Franco Solerio Michele Di Maio Eccetera È ovvio Che diventa impossibile Ma se l'organo Fosse consultivo Se l'organo Fosse a chiamata Nel senso Se le pene Per l'errore Per non aver chiamato Fossero commensurate Come devono esserlo Come tutto È proporzionale In giurisprudenza In legge A quello che è L'effetto Di un ban O di un mancato ban Nel senso Se tu Se Michele Dice odio i bambini E io non lo banno Il danno Non è grosso Se Michele Dice odio i bambini E io lo banno E poi la legge Dice che ho sbagliato Vabbè alla fine Dei conti Michele Non gli ho tolto Tutta questa risonanza Perché con quel post Michele non è che diventava Più ricco Più interessante O diventava Presidente della Repubblica Ma nel momento in cui Io devo decidere Di tappare la bocca Al Presidente Degli Stati Uniti E forse Io credo Che avrebbe fatto Anche piacere Avere Sia a Jack Dorsey Che a Zuckerberg Avere un organo Un giudice A cui fare riferimento Signor Togato Giudice Sua eminenza Certissima Guardi Questo è il comportamento Reiterato Si ricorda Che li abbiamo già scritto 18 volte Perché quello là Aveva detto Ammazzate i bambini Andate a fare la guerra Al Campidoglio Eccetera Questa volta Ebbè la guerra Al Campidoglio Rischia davvero Di partire Cosa facciamo Noi penseremo Di bannare Trump Lei che cosa dice Fatelo Non fatelo A quel punto La responsabilità Capisci Secondo me Non funziona Non è un Whatsapp Non è che tu Qualunque sia Quest'organo Non può essere un Whatsapp Quando tu parli Con la GCM Quando tu parli Con l'antitrust Devi preparare un papillo Grosso così Con tutte le prove Che tu porti Quanto ci ha messo Facebook e Twitter A bannare Trump Quanto ci hanno messo Un mandato Fondamentalmente Ci ha messo Un mandato intero Ok Possiamo organizzare Possiamo organizzare Un organo Della magistratura Una serie di procedure Che più o meno Nello stesso tempo Rieschiano ad arrivare A una decisione Che però sia Non l'espressione Di un consiglio Di amministrazione Secondo me Sì Secondo me Il tempo c'è Però cacchio Ecco Poi Come volete Lasciamo Lasciamolo in mano Ai privati Sarà sicuramente La ricetta migliore Perché sarà tutto scelto In nome del nostro bene È il momento Due minuti Per ringraziare Il nostro sponsor Squarespace La migliore piattaforma Per pubblicare Sulla rete È un sistema integrato Squarespace Un sistema integrato Nel quale Nel quale trovate La soluzione ideale A qualsiasi necessità Di creare un sito internet E chi non ha bisogno Di un sito web Una volta nella vita I digitaliani In realtà Ne hanno spesso bisogno Perché Tante volte Fanno delle cose Per sé Sì a volte Per sperimentare Per studiare Il sito della vita Allora ti metti lì Con i strumenti Più difficili Devi imparare Programmare Eccetera Ma tante volte Ti serve una roba facile Perché hai fatto un programmino Da due euro Che vendi a due euro Sul web E vuoi una pagina Con scritto Le istruzioni Per come funziona Quel programma Oppure tante volte Qualche amico Qualche parente Ci dice Oh mi metti su un sito Per le foto del matrimonio Per la gita scolastica Per la garetta di sci Dello sci club del figlio Oh sono dolori Perché o fai una cagata O lo fai brutto 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 O per farlo bene Ci impieghi del tempo E certe volte Non hai proprio cuore Di dire di no Ecco Squarespace Vi viene in soccorso Per quello Perché in maniera facile Semplice Una volta che uno Ha i contenuti Mettere dentro i paginarli È veramente un attimo E i risultati sono Di livello professionale Squarespace ci libera Veramente dall'ansia Di creare un sito In poco tempo E con risultati Assolutamente professionali Dall'ansia poi Di doverlo seguire E di fare la manutenzione Tenerlo online Pulito Aggiornato Al sicuro Dagli hacker E Se il sito Non è per noi Ma per qualcun altro Ragazzi La tranquillità Di poter dire A questo qualcun altro Io te l'ho fatto Adesso funziona Sta in piedi da solo Non devi fare più niente Se vuoi aggiungere I contenuti Si fa così Col copia e incolla Trascinando le immagini Nella maniera più facile Fatelo tu E sei tranquillo Che tanto Se gli hacker Cercano di hackerarlo Cercano di hackerare Tutta Squarespace E il team di Squarespace È sempre lì Con gli occhi puntati Per trovare vulnerabilità Per aggiornarlo Per migliorarlo Per rendere più veloce Per renderlo compatibile Con le nuove tecnologie Insomma Noi ce ne possiamo Dimenticare E poi c'è il supporto utenti 24 su 24 7 giorni su 7 Che spiega Sia a noi Quando dobbiamo costruire Il sito per qualcun altro Come fare Fino alle cose più difficili Sia anche le banalità Perché gli utenti Hanno diritto A un supporto Che gli spieghi anche Come faccio a cambiare Il testo In quella casellina lì Con Squarespace Che il sito Me l'ha fatto il nipote Ma l'abbonamento è il mio E il supporto utenti Di Squarespace Si mette lì Tranquillo tranquillo Vi risponde direttamente Non da un call center All'altro capo del mondo Ma da un ufficio Di Squarespace E vi spiega Per filo per segno Oppure spiega Alla segretaria Dello sci club Per filo per segno Come andare a Risolvere quel problema Correggere quella cosa Fatelo Provatelo Provatelo gratis Non vi serve la carta di credito Squarespace.com Slash digitalia Attivate la vostra Traia gratuita Se poi Non vi serve Ve ne dimenticate Non avete messo la carta di credito Non costa niente Ma se decidete che vi serve Ricordatevi di digitalia Perché digitalia Oltre a essere Chi vi ha dato il consiglio È anche Il codice coupon Che vi dà diritto Al 10% di sconto Sul costo di abbonamento Ricordatevi Scrivete digitalia Dove c'è scritto Promocode E avete il 10% di sconto Sul primo anno Di abbonamento Grazie Squarespace Per aver sponsorizzato Anche questa puntata Di digitalia È libero L'hanno acchierato L'hanno bloccato O non l'hanno bloccato È censura O non è censura Perché oggi Ogni volta che una cosa Non funziona Prima di andare in onda Non mi funzionava Il passaggio di audio Da mettere in moto Che ti avessero censurato Sono sicuramente Appena stato censurato E non per mandato Di un giudice Cosa è successo? Però mi fa piacere Alla prima di tutto È Bipartisan oggi Abbiamo una testata di destra E una testata di sinistra Di sinistra Far condicio perfetta Questo è un bello Libero Partiamo da libero Come? È la net neutrality È la net neutrality Perfetto 11 gennaio Libero Twitta Scrive sui propri social Che Sulla scia Dei poteri forti Dei social Che avevano Erano ancora freschi Di caccia alle streghe Trump Trump bannato Siamo freschi ancora oggi Siamo freschi ancora Esatto La vernice non si è ancora asciugata Neanche il sangue E quindi anche Il libero si è trovato Con il proprio account Limitato Limitato vuol dire Che se voi andavate Su At Libero A libero Quotidiano Trovavate Una pagina Diciamo Un avviso extra Che diceva Che a causa Di attività Sospette Questo Questo account Era momentaneamente Limitato E si poteva andare avanti E vedere l'account Oppure Uscire E tornare Sulla home page Di twitter Quindi Per circa 24 realtà Come dire Non c'è mai stata Una risposta ufficiale Perché non Ci sono Ci sono delle ipotesi Che potessero essere Qualcuno su Qualcuno su twitter Aveva detto Che le credenziali Di libero Si trovavano Sul dark web Su tor C'era un Un token di accesso Che potenzialmente Poteva essere usato Ma probabilmente Sul dark web Ci sono anche quelle Del wall street journal Ma infatti era una roba Di tipo La casa bianca E così Insomma Non si è mai arrivati Alla fine Dopo meno di 24 ore L'account di libero È tornato È tornato Libero Grazie E nel fratello Libero Aveva scritto di tutto Appunto Sul proprio Sul proprio ban Va bene Numero uno È un nervo scoperto È ovvio che oggi È un nervo scopertissimo Ecco Numero due Il manifesto Numero due Il manifesto Il manifesto Che credo di recente Abbia lanciato Un restyling Della propria applicazione Era in piena Campagna Piena campagna Abbonamenti Ed è stata tolta Dal play store Chiedo perdono È solo un'app È solo una cosa online O c'è ancora Perché io Non seguendo Proprio le sorti Del manifesto Da vicino Chiedo scusa A chi ne è appassionato Mi ricordo Che era fallito Tempo fa Il manifesto Era stato Un momento Di cosa Ha continuato A andare In edicola E ancora Adesso sicuramente In edicola Io per più che altro Perché seguo Simone Pieranni Che è uno dei giornalisti Del manifesto Però no Non ti so Non ti so Rispondere Ce lo perdono Ignoranza Ignoranza Gretta Adesso Vado a cercare E niente Nel caso Del manifesto E appunto È stata rimossa L'applicazione Dal play store In questo caso In realtà Si sanno Le ragioni Perché google Ha scritto E pare che in realtà Avesse scritto Come dire Già da un po' di tempo Al Al giornale Che comunque Mancavano Delle informazioni E quindi Google Apparente Credo che avesse Cambiato la policy Per i giornali E che dovevano Integrare Con alcune informazioni Del tipo Di chi è la proprietà Chi sono i finanziatori E così E così via Pare che il manifesto Non l'avesse fatto Arrivato il giorno Pabam Giustamente L'algoritmo Non vuole sapere niente Esatto L'algoritmo Non vuole sapere niente E poi pare che Abbiano integrato Le informazioni Anche lì Dopo circa 24 ore Forse 48 Anche l'applicazione Del manifesto È tornato Quindi sì Io Parlerei veramente Di nervo scoperto Perché stiamo parlando Di situazioni Che potenzialmente Sono Di tipo tecnico Da una parte libero Che pubblica Con la sua applicazione Sviluppata internamente O comunque sviluppata Tramite una società E che magari Può essere andata In palla E aver pubblicato Troppi tweet E quindi L'ha mandato L'altro è il manifesto Che mancano Anche le informazioni Sul Sul play store E Tutto è bene Che finisce bene C'è da dire Che non stento A crederci Non stento a crederci Anche per la poca Trasparenza Spesso In questi meccanismi Da sviluppatore Mi è già capitato No In realtà Il servizio Smette di darti Un Ti mette in blocco Perché E non è che ti arriva In automatico Che sarebbe una roba Banale da implementare Ti arriva un'email In automatico Con scritto Caro Franco Solerio Sei tu lo sviluppatore Di Castamatic Guarda che attualmente Castamatic Non lo vede nessuno Sull'app store Perché ti sei Dimenticato Di dichiarare Che librerie Di pubblicità Utilizzi Nel momento In cui tu lo dichiari Lo mettiamo automaticamente Se non sai Come farlo Guarda che questo link A questo link Trovi una bella spiegazione Dove ti spiega Dove andare a mettere Queste informazioni Questo sarebbe Nel 2021 Una cosa Invece Franco Ma chiama il servizio clienti Non capisco mai Il consenter Apposta per questo Proprio quello Il consenter Per gli sviluppatori Invece il tuo server Riceve Un 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 reply Di un qualche tipo Fail E tu Ciao Gambe all'aria Il redattore dice Ma come non siamo lei Per il più Il manifesto Era Aveva appena lanciato La campagna abbonamenti Per cui Anche un danno grosso Perché Proprio nel momento In cui In un momento Critico Ho letto velocemente La pagina su wikipedia E mi ricordavo bene Il manifesto Non è fallito una volta Ma è andato in amministrazione Controllata E' stato detto Di chiudere Di liquidare Una storia Abbastanza travagliata Però Quanto pare Continua a uscire Continua a pubblicare Complimenti Per la resistenza Sì sì L'unità era fallita Anche il manifesto Se volete Riprendo la Riprendo la pagina Per quanto possa fregarmene Visto che Abbiamo No no Per Per similità Cioè Manifesto Del giornale I liquidatori Hanno inviato Un fax Alla redazione Del giornale Per chiedere La chiusura Di ogni attività Editoriale La cooperativa È stata messa In liquidazione Coatta Amministrativa Nell'autunno 2012 Abbandonano il giornale Vauro Marco Deramo Rossanda Rossanda Poco dopo Con la liquidazione La cooperativa Originaria Una nuova Un altro gruppo Di giornalisti Ha lasciato il giornale Tra essi alcune firme storiche Come Loris Campetti Eccetera Eccetera Vabbè insomma Grazie Travagliato 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 Ho detto un articolo Che arrivava da Oddio Il Fatto Quotidiano Il Fatto Quotidiano Il Fatto Quotidiano Il Fatto Quotidiano Bio Blu Cosa c'è dopo Diciamo che Però Insomma Poi sono andato A cercare Di più E sono andato A cercare E avevo messo Un articolo Anche da Bufale.net Che servirebbe Proprio Per evitare Ho difficoltà Però a piangere Per Bio Blu Io lo capisco Ma C'era tanta gente Che aveva difficoltà C'era difficoltà A piangere Anche per il barbiere ebreo Che aveva dovuto Chiudere a Roma Però Dopo abbiamo capito Che invece dovevamo Piangere tutti Non le equiparere Esattamente Come le situazioni Puoi non equipararle Non è un problema Capisco il fondo Ma Puoi non equipararle Ma non è una questione Di equiparare Quando si parla di diritti Non c'è qualcuno Che ha più o meno diritti I diritti dovrebbero essere uguali Per tutti Per i belli Che è facile difendere I diritti per i belli E per i brutti Che è la cosa più difficile Ma se i diritti Non esistono per i brutti Non sono più diritti Bio Blu è brutto Parecchio Io sono d'accordo con te Che Bio Blu è brutto parecchio Però È un contrapeso Anche quando dice E cazzate Ne dice tante È sano il contrapeso Nella democrazia E pare Però Per quanto Alla fine dei conti Bio Blu È stato Ha dato spazio A complottare Di ogni tipo Ha tirato fuori Delle cazzate più assurde Ha È andata gente È andato montanari A dire le sue belinate È andata gente A dire che se i bambini Si mettevano la mascherina Morivano stecchiti Per terra Che sono Cose Assolutamente false Se non per Fringe No Se non per il bambino malato L'anziano malato In insufficienza respiratoria Oppure il bambino Che in cortile Fai 110 metri A ostacoli E se gli metti la mascherina Schiata per terra Ci mancherebbe Vorrei vedere Professore di educazione fisica Che gli fa fare I 100 metri a ostacoli Con la mascherina Ma dire che la mascherina È pericolosa Per tutti i bambini È una cazzata È un messaggio sbagliato È una bufala Però non è mai stato bannato Il problema oggi È che abbiamo Un'emergenza sanitaria Ci caghiamo tutti addosso Speriamo che Il vaccino del coronavirus Ci salvi la pelle E BioBlu ha dato Un Ha ripreso Un articolo Che ha fatto molto Nella comunità Nella comunità medica Scientifica Ha fatto molto discutere L'articolo di Peter Doshi Che È un articolo Serio È un articolo Pubblicato da una rivista Molto seria Che si chiama British Medical Journal Che se dobbiamo mettere In ordine di Importanza e di serietà Le riviste scientifiche Sopra ci mettiamo Science and Nature Forse e ben pochi altri E E quindi dire che Nel momento in cui Discuti e fai E porti All'attenzione del mondo Questo tipo di articolo Sei pericoloso Perché questo articolo Mette in discussione L'assunto Sull'efficacia del vaccino Sui conti Che sono di dominio pubblico Eccetera In 95% 90% Di efficacia Secondo me Non è un buon segno Allora Bannalo Quando va Montanari A dire Delle cacchiate A dire delle cose Estremamente false Non quando vanno A discutere Un articolo serio Pubblicato da un giornale serio Su dei dubbi Che possono essere sbagliati Perché sono fondati Su un assunto Che molti non accettano Ma è una cosa Che è talmente seria Che è stata presa Dal British Medical Journal Ecco Questo Secondo me È un segnale brutto Di nuovo È un segnale Che sono le persone sbagliate A operare la censura Oggi I privati Questa è la mia riflessione Cioè Tutte le minchiate Quindi che Bio Blue Ha scritto Dall'inizio dei secoli Tu mi stai dicendo Che l'unico Non entro nello specifico D'articolo Perché poi Non essendo un medico Non ci entro neanche Però appunto Tutte le minchiate Che ha scritto L'unica Che forse Aveva Oltre L'hanno Censurato Mi piace È l'unica Perché Lo dico In maniera Molto serena Come non conosco Niente del manifesto Non conosco niente Di Bio Blue Tranne le poche volte Nella vita Che qualcuno Mi ha mandato Un link E mi ha detto Guarda Devi guardare quello Oppure Perché è uscito Qualcoglio talmente grosso Che su Twitter L'hanno ritwittato tutti Eccetera E sinceramente Io mi ricordo Negli ultimi anni Di aver visto Su Bio Blue Montanari Dire delle cagate E questa cosa qui Perché è arrivata adesso E forse anni prima Roba di ultracomplottismo E roba quasi da Giacobbo Si chiamava Giacobbe Giacobbo Grandissimo Roba quasi di quel livello Per cui ora Sono ospiti e clienti Di Buffale Tanto al chilo Giornalmente Ecco Allora Oggi leggere su Buffale.net Perché dovrebbe proprio Avere Avere questo tipo Di Di sguardo Dire che in realtà Sono Che Lo stop di YouTube È dovuto Semplicemente Ad aver parlato Di questo Di questo pezzo Mi fa Mi fa pensare No Perché ovviamente Chi ha Operato questa censura Non ha valutato Quanto vero O quanto sbagliato Il merito della cosa Ma semplicemente Valutato che oggi Sul vaccino Sul virus Sono tutti Con i capelli dritti Gli occhi dritti così Questo qui Si è permesso di Pubblicare o qualche cosa Era probabilmente Già nel mirino Per tutta la serie Di cazzate Che aveva già pubblicato E quindi lo blocchiamo Però secondo me È un passo falso Enorme Ed è di nuovo Il sintomo Di un problema Di un problema Di fondo Che è lo stesso Di cui abbiamo parlato Prima Ecco Per chi interessasse L'articolo Di Peter Doshi Fondamentalmente Dice che Secondo lui L'efficacia Del vaccino Della Pfizer Quello attualmente Distribuito Non è del 95% Ma potrebbe essere In realtà Molto più basso Fino al 20% Più o meno Per quale motivo Perché Di tutti quelli Che hanno fatto Il vaccino Nello studio E dei controlli Lo studio è stato fatto così Prendiamo 20.000 40.000 persone Le randomizziamo Le mettiamo 20.000 da una parte 20.000 dall'altra A 20.000 Diamo il vaccino A 20.000 Diamo acqua fresca E chi somministra Non sa Che cosa sta dando In quel momento Quello è un doppio ciclo Dopodiché Andiamo a spaccare Le buste Vediamo In un gruppo E nell'altro Quanti si sono ammalati Ok Nel momento in cui Hanno fatto i conti Hanno preso Come golden standard Il tampone Per vedere Quanti si erano ammalati E lui ha detto Sì Però sono state scartate Un numero enorme Di persone Che avevano sintomi Che potevano essere Coronavirus E potevano anche Non esserlo Ma il tampone Era negativo Siccome il tampone È uno strumento Un po' particolare Per fare questa diagnosi E non è universalmente Accettato Che non abbia Questo tipo di fasi Se in realtà Noi considerassimo Come diagnosi I sintomi E non il tampone Noi avremmo Un'enorme quantità Di malati Che va a Ingolfare lo studio Sia nel gruppo Dei controlli Sia nel gruppo Dei Siccome queste persone Che hanno avuto sintomi Ed erano negativi Al tampone Erano una quantità Enorme Rispetto a quelli Che effettivamente Si sono ammalati In entrambi i gruppi Perché quelli che si sono ammalati Col tampone positivo Erano molti di più Nel gruppo controllo Che in quelli vaccinati È questo che ha fatto dire 95% di efficacia Perché Se nel gruppo Di 10.000 Non vaccinati Si sono ammalati Col tampone positivo In 5 E nel gruppo Invece Scusate Nel gruppo Dei non vaccinati In 200 E nel gruppo Dei vaccinati In 5 Fate il conto E l'efficacia Arriva a quei livelli Ma se noi invece Consideriamo Se dove c'erano 200 malati C'erano anche 5.000 Con i sintomi Nonostante Avessero il tampone Positivo E nel gruppo Dei vaccinati Oltre ai 5 malati C'erano anche lì Stesso numero 200 Cosa abbiamo detto Torino 1.000 Con i sintomi Nel momento in cui Pensiamo che il tampone Non sia affidabile Quel conto lì È sbagliatissimo E l'estremo E se noi consideriamo Tutti quelli con i sintomi Come malati A questo punto Il conto diventa Il 20% È ovvio che È un ragionamento Per asintoto È un ragionamento Esagerato È ovvio che Quel 20% Probabilmente È stato preso Da queste trasmissioni D'ammessore Eccetera Come un numero assoluto Ah l'efficacia del vaccino È del 20% No Non è quello che ha detto Doshi Doshi ha detto È probabilmente A più bassa Di quanto non lo sappiamo Però Nel momento in cui Non abbiamo i dati precisi Non eccediamo Nel trionfalismo Perché siamo Nelle brate E dobbiamo essere Molto cauti Ecco Questo era lo studio È uno studio equilibrato Poi Se si vuol dire Che il pubblico Non lo deve sapere Perché oddio Potrebbe diminuire La fiducia nel vaccino E ancora meno gente Andarsi a vaccinare Può darsi Ognuno può sostenere Però È come dire Che nel momento in cui Dobbiamo salvare l'umanità Va bene chiudere la bocca a tutti E ci vuole la dittatura Perché la dittatura Si sa Si muove meglio E funziona meglio Di qualsiasi altro Nei momenti Nei momenti di crisi O darsi Però bisognerebbe Vedere Davvero Questo servizio Di Bio Blu Come hai fatto È vero È purtroppo Tu hai riportato Bene L'articolo di Doshi Ma magari Lo strumentalizzavano In maniera Estremamente È probabile È molto probabile Però Il fermo restante È chiaro Però E soprattutto Noi non possiamo commentarlo Ma noi su questo punto Siamo assolutamente d'accordo È un ulteriore problema No? E non permette Non è d'accordo Guarda questo link Questo link Questo link Va bene Permetti alle persone Metti in guardia le persone Le persone si fidano un po' di meno Permetti a ricercatori Opinionisti Giornalisti Eccetera Di farsi un'idea Permetti a Franco e Massimo Di andare a sentire esattamente Cosa ha detto Stopirla E di capire cosa Invece no Oggi è tutto nascosto Sotto una pietra E questo è anche il male Della censura Assolutamente Questo veramente Va bene Adesso vediamo Ok Perdonatemi che mi sono perso Un attimo Facciamo che ringraziare I produttori esecutivi Dai E stai per una buona idea Produttori esecutivi La linfa vitale di Digitalia Siete voi Digitalia si basa su Pochi sponsor E tanto supporto Da parte dei loro Dei suoi ascoltatori Gentleman Agreement Noi lavoriamo Come dei matti Produciamo Studiamo Leggiamo Ci informiamo Leggiamo non un articolo Ma dieci per ogni argomento Lo pesiamo Litighiamo Spendiamo lacrime e sangue Per portarvi un prodotto Che quindi ha un costo E vi chiediamo Di farvi carico Di una piccola parte Di questo costo Perdonatemi Non vi chiediamo Né una cifra precisa Né una cadenza Vi chiediamo Con una mano sul cuore E l'altra sul portafoglio Di sostenere Questo lavoro In cambio Continuiamo ovviamente A lavorare per voi E vi ringraziamo Nel nostro episodio E in diretta Max c'è il pdf sottomano Pronto Scusa vai Grazie Ci vuole il grazie Del doc Per ogni intervallo Perché sennò I nostri produttori Donazioni ricorrenti Da 3 euro Di A 3 euro al mese Di Fabio Filisetti Enrico Carangi Fulvio Barizzone Roberto Medeossi Diego Arati Luca Obiali Matteo Moras Antonio Taurisano Alessandro Morgantini Matteo Vivona Calogero Augusta Mario Giammona Simone Podico Michelangelo Rocchetti Pierluigi Ranghino Enrico Mattiazzi Dario Nardi Nenis Grosso Paolo Roberto Grassi Agostino Sargenti Giorgio Puglisi Umberto Marcello Giacomo Cipriani Fabio Brunelli Andrea Malesani Grazie Siete tanti Grazie di cuore Donazione singola Da 1 euro Di Massimo Corner Che pone una strana domanda Ma che Sono l'unico Che ascolta Digitalia con Castamatic Ah no Mi sembra che Eh no No ho detto Settimana scorsa Ci siamo spiegati male Forse quando Dicevamo che erano in pochi Che ascoltavano Digitalia con Castamatic Direttamente Dallo speaker Del telefonino Ah ecco tutto Era il terzo player Nei conti Nelle statistiche Donazioni ricorrenti Da 5 euro Al mese Di Mauro Tommasi Donato Gravino Marco Iannacone Letizia Calcinai Edoardo Volpi Kellerman Grazie Grazie Del doc È mancato Perché Avuto come avete sentito Un piccolo Un po' di cose Donazioni singola Da un euro Di Vito Astone Da 10 Scusate Da 10 euro Di Vito Astone Che introduce La sezione Grandi produttori Vito Manda anche Un messaggio Ciao a tutti ragazzi Bellissimo L'articolo suggerito Da Franco Sulla reingegnerizzazione Nel codice sorgente Del vaccino BioNTech Pfizer C'era anche Seguito Da una donazione Di anonimo Da 10 euro Che è sempre In zona Grandi produttori Il quale Anonimo ci dice Ciao doc Ecco il mio piccolo Contributo Per il vostro Grande lavoro Ti chiedo Di rimanere anonimo Nella lista Di produttori Grazie E così facemmo Grazie Max Mi hai salvato L'ho salvato Perché il doc Diciamocelo Se l'era dimenticato Fa niente Fa niente T'ho salvato io Anonimo Donazioni singole Da 10 euro Sempre Zona Grandi produttori Che questa puntata È molto ricca Abbiamo Alessandro D Riccardo D Eh no Riccardo C Scusate Alessandro D Riccardo C Donazioni ricorrente Di 10 euro al mese Di Paolo Tegoni Donazioni singole Da 12 13 E 15 euro Di rispettivamente Andrea Z Matteo Bergamaschi E Michele Desanet Ancora una donazione singola Da 15 euro Di Enzo Scasserra Scasserra Eh che dice pure Grazie a voi Ho sempre tanti argomenti Di cui discutere Con cui discutere Con la mia fidanzata Altro che caffè letterario Noi abbiamo Cene digitaliane Saluti Dalla Francia Registratele Fateci sentire Donazioni singole Eh Fate un podcast Fate un podcast Cena con la fidanzata Cena digitaliana Con la fidanzata Secondo me addirittura Potrebbe essere Un romanzo Delle ragate a Cristi Comunque Digital francese però Eh perché Dalla Francia Donazione singola Da 20 euro Che conclude Questa meravigliosa lista Di grandi produttori Di Marco R Che è anche il nostro Lead executive Producer Della puntata E se non è spettacolo Questo Cos'altro Grazie Grazie di cuore a tutti Trovate tutte le Indicazioni Se volete diventare Produttori esecutivi Su digitalia.fm Lo trovate nella pagina Della diretta Bitcoin PayPal Bonifico bancario Satisfaction In mezzi I metodi Implementati Dateci una mano Noi continuiamo A lavorare Per voi Mi sapete raccontare Che cos'è tutto Sto casino Sull'update Di Whatsapp Le regole Quelli di Signal Sono diventati pazzi Perché di colpo Ci sono arrivati 18 miliardi Di utenti nuovi Sono andati a gamba all'aria Sono cresciati Amorosamente Dovete sapere Che io sono uno Dei pochi che usava Signal da tempi Non sospetti Da quando ho cominciato A studiare La sicurezza Su rete Ed ero così contento Un'app così bella Di nicchia Hai letto La risposta Di Snowden Al tizio Che gli diceva Sì sì ma tu Come fai ad essere Così sicuro E tranquillo Del fatto Che Signal Sia sicuro Lui ha risposto Perché sono Compagno E questo Anche il messaggio Della Signal Community Ragazzi dai Non vi incazzate Siamo open source Stiamo lavorando Peace and love Sono tornati In questi giorni Online E funzionano meglio Di prima Ma che cosa è successo Perché Whatsapp Ha spaventato tutti Perché Allora Cosa è successo Che Beh in realtà Un po' tutti Adesso Non so Immagino anche voi Nelle scorse settimane Ci siamo trovati Con questo Almeno su Android Era credo Un alert A tutto schermo Qualcosa E che era anche Abbastanza fastidioso Perché tornava Varie volte Se rispondevi Non adesso Sul fatto Che Whatsapp Avrebbe cambiato Le proprie Le proprie policy E a un certo punto Appunto parlava Di condivisione Dei dati Con le altre aziende Del gruppo Facebook Quindi Facebook Madre Oh my god No shit Sherlock No allora È stato Un fenomeno catalizzatore Perché ovunque Su internet E io l'ho visto Poi anche le notifiche Che iniziavano ad arrivare Da Signal A Telegram A Telegram Gente che si è iscritta Per nulla Perché in realtà Questo era un messaggio Le Che valeva Principalmente Per il resto del mondo Il mondo non GDPR Per le quali Dovrebbe Sarebbe dovuto cambiare Anzi Poi hanno cambiato la data Adesso è a maggio Davvero Dovranno cambiare Le regole Le policy E ci sarà una maggiore Condivisione dei dati All'interno del gruppo Facebook Che in realtà È una cosa Che GDPR o no Esiste già Whatsapp Già credo dal 2016 O dal 2017 Quindi in realtà Abbastanza poco dopo La condizione Una cosa che mi aveva detto Che non avrebbe mai fatto E che ha fatto Ha fatto subito Ma non è che l'ha fatto dopo L'ha fatto immediatamente Quindi Alla fine della fine Esatto Positivo Come fenomeno Catalizzatore Perché veramente Io non ho mai visto Così tanta consapevolezza E anche voglia Di rivalza Nei confronti di Facebook E deluso Che uno Che ne sente Vuol dire Che i tempi Sono maturi Caspita Perché sono maturati Proprio adesso Di colpo C'è qualche collegamento Con Trump Chiuso Trump La censura La non censura Eccetera Non ho ne idea Ci può essere qualche collegamento Perché le tipistiche Siamo là È provocatorio No Io credo proprio di sì Che c'è stato un collegamento Un collegamento È di una presa Di coscienza generale No Quello che noi Che noi stiamo tentando Da tanti anni No Di far crescere Questa consapevolezza Della interconnessione Tra le varie tecnologie Che utilizziamo Sui dati Che cediamo E tutto il resto È come Tutti gli avvenimenti Recenti Degli ultimi anni E in particolare Questo epigono Che è stata La vicenda americana Hanno fatto fare Secondo me Un grosso salto Di maturità Complessiva No Di finalmente Presa di coscienza Seria Che tutte le cose Che si dicono Sui dati Che vengono condivisi Cambridge Analytica Mi vendono di qua Mi vendono di là C'è un impatto Sulla vita reale Davvero E che non è Trascurabile Il ban di Trump Che è l'argomento grosso Diciamo che è Loosely coupled È accoppiato In maniera molto lasca Con tutto questo Cioè C'è ragione No Questa è di tempistica Proprio Perché guarda Big tech americano Come cattivo Che ha bannato Trump Rischio che bannino anche me Passo su Telegram Non so No E che si comincia Guarda L'articolo Che poi abbiamo Prima citato Di Elena Tebbano Sul Corriere della Sera Faceva veramente Questa Questi Questi bei passaggi Appunto Le cose sono concatenate Tra di loro Perché si comincia A capire Che davvero L'impatto Di queste tecnologie E lo strapotere O comunque Il monopolio Che si è creato Attorno a queste aziende A degli addentellati A degli addentellati Che vanno Dappertutto Nella vita E la cosa Che mi colpisce Di più di tutto E con questo Ho trovato molto positivo Questo fenomeno Diciamo Di appunto Di fuga E di ricerca Di alternative Proprio per dire La mia scelta Specifica Singola Ha un impatto Ha un significato Il povero Cristo Che ha compilato Quel form Quel banner Che compare su Whatsapp L'hanno bruciato L'hanno demolecolizzato Stufa Io l'ho interpretato Come Vabbè È una cosa Da tutti i giorni Alla fine Perché sono Quei classici Cambi di policy Che ti arrivano Ogni tanto Sulle applicazioni E tu che fai Non è che poi dici Vabbè Non accetto C'ho tutti i miei amici Su Whatsapp Tutti i gruppi Magari anche Lo uso per lavoro Quindi diventa Impossibile Liberarsene E quindi Dal punto di vista Di Whatsapp Slash Facebook Ha detto Vabbè Facciamo uscire Anche questo Poi a chi se ne frega Però è È stato ingigantito Può essere anche Che è la prima volta Che è la prima volta Che la gente Si è trovata davanti A un messaggio chiaro Cioè prima Tutto questo All'ultimo Eula No pagina 2754 In piccolino Eccetera E finché arrivava Il messaggio La catena di Sant'Antonio Con scritto Whatsapp Condivide tutti i dati Con Facebook La maggior parte della gente Se ne strafregava Nel momento in cui È comparso un banner A tutto schermo Di Whatsapp Stesso Che diceva Oh ragazzi Guardate che condividiamo I vostri dati con Facebook Forse la gente Ha capito un po' di più Può essere anche quello Perché effettivamente Prima non mi ricordo mai Di banner Così espliciti Che dicessero Guarda che prendiamo Questo Questo tuo dato Lo condividiamo di qua Lo vendiamo di là È sempre in fondo A un contratto È sempre in fondo A un euro Eccetera Per cui Questo Farebbe Farebbe capire Che anche Obbligare A mettere Le parti critiche Di questi Eula Per sommi capi Dentro Delle comunicazioni In prima fila Potrebbe essere importante Oggi che l'Europa Si mette a studiare Come limitare Questi abusi Da parte delle piattaforme Dominanti Da parte di chi ha Tutti questi dati Eccetera È obbligare Rendere Abbiamo capito Che oggi il mondo È diverso No Abbiamo capito Che è diverso E Per il mondo Per la legge Come oggi Una cosa che scrivi In prima pagina Su un contratto È una cosa che scrivi Come ultima lettere In fondo Con un carattere Dieci volte più piccolo Hanno lo stesso valore Dal punto di vista legale Che tu lo metti all'inizio Alla fine Eccetera Ma per l'efficacia Informativa Non hanno lo stesso valore Ovviamente Non hanno lo stesso valore E l'utente Dovrebbe avere Un diritto A comprendere Quali suoi diritti Vengono In particolare Limitati In questo caso È il diritto Alla privacy Che in qualche modo Nel momento in cui Io acquisisco Dei tuoi dati E li utilizzo Per qualcosa Io limito E rodo Un tuo diritto Ecco Nel momento in cui Questi diritti Così fondamentali E così sfruttati E così Come dire Così Ricchi Così preziosi Dal punto di vista Economico Perché sono La merce di scambio Di tutta internet E beh È giusto Che si chieda Alle aziende Di metterlo In grande evidenza Come Microsoft Diceva Sì ma L'utente Può disinstallare Internet Explorer E installare Firefox O quello che vuole Però a un certo punto Gli hanno detto E no cicciobello Tu quando Windows Fa il boot Devi mettere Una pagina così Con tre Opzioni disponibili Di cui una Delle tre Sarà Internet Explorer Ma non deve Mai essere Non deve essere Sempre la prima La posizione deve essere Randomizzata Il motivo è lo stesso Perché certo Che l'utente Ha la possibilità Ma l'utente Se non è ultra smaliziato Se non glielo metti Davanti agli occhi Non ce l'ha E ha dei meccanismi automatici E questa è la stessa cosa E allora io penso Che dovrebbe essere Reso obbligatorio Questo tipo di pannelli Quando tu lo apri Sì guarda Qui c'è l'Eole Tu lo accetti È lungo un chilometro Sappiamo che non leggerai mai Ma guarda Che sappiamo Dove abita tua nonna E se tu ci scrivi Ok qui Lo sapranno anche Tutti i pubblicitari Dell'universo Quello sarebbe Una cosa giusta E non credo Difficilmente implementabile Dal punto di vista Legislativo E poi dal punto di vista Del software Una banalità Abbiamo messo banner Abbiamo messo banner Su tutti i siti Per la cucina Da un giorno all'altro Quindi No dovrebbe essere Una forma Una forma interessante Potrebbe essere Avete presente Quella dei bollini Della Creative Common Dove tu vedi Vai L'etichetta L'etichetta di Apple Software Che stanno implementando Adesso è molto simile Come l'etichetta del cibo Questo Te lo vendiamo L'abbiamo inscatolato A Novara Ma arriva Dall'Arabia Saudita Punto Finito Sono dati Che non li puoi mettere In fonda Un'eula Linkato Eccetera Li metti Sull'etichetta Che la gente vede Sotto il prezzo Questa è veramente Un'azione concreta Abbastanza semplice Da implementare Ed efficace Un'etichetta Obbligatoria Va bene Intanto Google Conclude L'acquisizione Di Fitbit E promette Che non userà mai Segnatela Ok Ci crediamo No? Certo Ci crediamo Mai Nella tradizione Di impeggerli Maurestad Di questi grandi Del web Come potremmo Non credere Vabbè Il resto Lo tagliamo Un po' di notizie Di entertainment Va così La facciamo Chiudiamo La chiudiamo In bellezza Vabbè La Netflix Italiana della cultura Ne abbiamo già parlato E vabbè Credo che ci sarà È uscito il logo però Il SART Il logo Com'è il logo C'è il logo Ho letto che è nuovo Ma non l'ho ancora visto È bello sto logo È bruttissimo È bruttissimo No Hai presente quello di Italia.it? No Non me lo ricordo È peggio Vabbè Il livello è basso Il livello è particolare Il livello è del design Il nostro Cioè Ci abbiamo Michelangelo È incredibile È incredibile Vabbè Lo studio Ti dà Alla Alla Studio testa Lo studio testa Ti farà una vacata Ricordi quelle 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 specie Di righelli Di plastica Come si chiamano Normografi? Quei righelli di plastica Con le letterine Che tu andavi Con la penna colorata Andavi con la penna colorata E restavano degli spazi Però si vedeva La forma È così Il design è una cosa Pazzesca Il design Perché dei loghi Poi Cioè Devi prendere Poi sei Sei lo stato italiano Di fatto Non hai lì Sei un ministero italiano Non hai Lì Hai limiti Però non hai il problema Che lo devi dare A tuo cugino Cioè a volte Prendi I tre studi più bravi E fagli fare uno studio E fare le cose Io Io resto sempre stupito Io sono un cane Per queste cose Un cane totale Quando ero in università a Torino Ero in immunologia Dei trapianti E eravamo agli albori Eravamo Proprio Tempi Pieneristici Anestesia col rum No no Anestesia col rum Perché E spiantare un fegato Cioè Trapiantare un fegato sotto rum Non è tanto semplice Però Si doveva fare una Si doveva fare una Una campagna Non mi ricordo Di sensibilizzazione Di sensibilizzazione Alla donazione d'organo Dovevamo fare qualche cosa E ci voleva un logo E dici Ci siamo messi lì E scervellati Abbiamo preso anche studenti Di architettura Gente che dovrebbe essere brava Inventiva Eccetera E non riuscivamo a tirar fuori niente Perché dice Un altervento chirurgico Una donazione d'organo È una cosa talmente trucida E truculenta Che come fai È collegata con la morte Perché il donatore Deve essere morto Eccetera Come fai a renderla una cosa Niente A certo punto Mio collega Anzi Allora non era mio collega Perché lui era medico Io non l'ero ancora Ero studente interno Dice Ma guarda che Domani vado a cena Con Tizio Caio E c'è l'amico Di quello che ci ospita Che lavora allo studio testa Gli chiedo Quanto può costare Vediamo se qualcuno Ci finanzia questa cosa Benissimo Lui va a questa cena Il tizio Ha parlato Si parlava Dove lavori Tra pianti Inizia da parlare Dice ma se tu dovessi fare Un logo per una cosa Questo qui ha preso Un tovagliolo Ha preso una penna Che ha disegnato Un fiore Con lo stelo verde La fogliolina E il fiore rosso A forma di cuore Finito lì La cosa più semplice Nel universo Una roba pazzesca Però ci siamo scervellati Per un mese in 200 E ci sembrava impossibile Far sta cosa E ha tirato fuori Una cosa bellissima Con la mano che tiene Sta cosa Col cuore Devi prendere È un mestiere È un mestiere È uno bravo In Italia Ci sono ben i più bravi Porca misera Per ste cose Ma Esce il nuovo gioco Di Indiana Jones Teaser trailer Di Bethesda È una botta al cuore È una botta al cuore Tu ti appassiona A questa cosa Mamma mia Ma io Cacchio I giochi Di Lucas Su Indiana Jones Dopo 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 Zach McCracken E Monty Island C'era Indiana Jones Sempre con l'interfaccia scam Era una roba Erano bellissime The Temple of Atlantis Era Quello su cui ho passato Sicuramente Delle ore Rubate allo studio Meraviglioso L'idea che esca un altro gioco Su Indiana Jones Tanta roba Che non c'entrerà niente Con quello Ma esce anche un altro film Non avrà l'interfaccia scam Scusa Max Dico esce anche un altro film Di Indiana Jones Esce un film Ma preparatevi Perché è una Properties Che Disney Ancora non ha strizzato Ecco Allora succederà Arriveranno Arriveranno A serie tv Vabbè Ma le serie tv Se sono spinofose Tipo Mandalorian Esatto Ho visto poi Solo E The Rogue One Mi sono piaciuti abbastanza Solo mi è piaciuto di più Di Rogue One Però anche Rogue One No A me è piaciuto più Rogue One Dobbiamo iniziare a litigare Anche su questo Sì Quando volete Quando volete Ok Va bene E E poi ho scoperto Che hanno fatto La serie televisiva Di Brave New World Ho iniziato Ecco Questa è stata La sorpresa anche per me Ma è uscita già No Credo che sia uscito Il trailer C'è già Gli episodi Non ho Guardato Quello che Inizio ho scoperto Attraverso questo È che ci sono Tutte delle Chiamiamole Etichette Di streaming Più o meno Piccole O semi Indipendenti Che in Italia Vengono Riofferte Tramite Tramite Amazon In questo caso Che hanno Un'offerta Discreta E Noi siamo Siamo abituati A pensare No A Amazon Netflix Da zone Per lo sport Disney plus Adesso Grossi contenitori Eccetera Ma ce ne sono Di più E Adesso Mi sono ovviamente Allora Guarda Brave New World E su Peacock Che è lo streaming Di NBC Se non ricordo male Quindi non proprio Piccolo Di un network Che ha lanciato Il suo HBO Max Però per noi È un'offerta piccola Fuori dal radar Perché Tu Max Sapevi di questa Offerta di Peacock No Ecco E lo compri Attraverso Amazon Prime Come un'offerta In più Di Amazon Prime C'è un nome Si chiamano Canali Canali Ma anche in Italia Sì 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 Midnight Factory Starz Play Infinity Questo lo conosciamo Raro video Full Moon TV Sì Dei canali Sono stati introdotti Da qualche Un paio Di mesi Forse era passato Sul back channel Non ne avevamo Ma non ne avevamo Parlato E Non sapevo Ci fosse Anche Peacock Dentro Ma ci sono un po' Di robe interessanti Sui canali In realtà Quello che è Peacock Se non ho capito male Viene Rivenduto Dentro Amazon Nel pacchetto Di Star Play Starz 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 Play Starz Play Starz Play Esattamente Che non so Sì Che è il pacchetto Di Starz Punto com The best 455 euro Al mese 55 euro Al mese No 5 5 euro 5 euro 5 Con il pacchetto Di prove Eccetera A molte di queste Ti puoi abbonare Puoi guardarle Sul web O tramite l'app Standalone Sul telefonino Ma la cosa più facile È passare attraverso I fornitori Che hai Già In questo caso Amazon Però ecco Era uno spicchio Del mondo dello streaming Che non conoscevo E se vogliamo mettere Ancora uno È talmente immenso È talmente È talmente immenso Il mondo dello streaming È talmente frammentato Perché Quello è il problema Che è frammentato A me gira tanto le palle Che oltre al tutto Frammentato Devo appagare Ogni singolo frammento E più il gigante Sul satellite Perché sennò Non posso parlare Le partite di Champions Ma tra poco Arriva anche Amazon Ti compra i diritti Della Champions Però a quanto pare Amazon sì Amazon pare che Faccia offerte Sia per Serie A Sia per la Champions È un po' di tempo Che ne parliamo E sarebbe anche ora Che qualcuno Scardinasse definitivamente Il monopolio di Sky Perché quello sì Che è un monopolio fastidioso È evidente È un monopolio Beh Per vedere il caccio Mi fanno pagare Mi fanno comprare Le serie TV I cartoni La TV per bambini Eccetera È ovvio Che è un abuso Di posizione dominante Credo che Non ci sia niente Da Niente Beh lì c'è una questione Di come vengono Venduti i diritti Si fa un'asta E vince Chi offre di più Sì Certamente Però ci possono essere Dei paletti anche lì Nel senso Se arriva Il più grosso Dell'universo Li compra tutti E fa vedere tutto lui Decide il prezzo E può Mettere in pratica Delle Delle strategie Dei meccanismi Anticompetitivi E quelli È giusto Per definizione È esclusivo Anzi Non so se è fatto così Ma è fatto per quello È fatto per quello Ma non per questo è giusto Poi ci sono dei contenuti Che hanno un carattere Di universalità Diversi Perché Anche lì bisogna Distinguere Lui c'ha l'esclusiva Di Mandalorian L'ha fatto lui Eccetera Ma se io non guardo Mandalorian Posso guardare Buffalo Bill Posso guardare Una maniera Un'enormità Di contenuti diversi Il campionato di calcio E la Champions Hanno Dal punto di vista sociale Una rilevanza diversa Perché sono delle consuetudini E delle abitudini diverse Quando c'è la finale Dei campionati del mondo Di calcio Saranno cagate Saranno persone A cui non gliene frega niente Ma Mai la televisione Fa così tanti ascolti Come in quel momento lì Vuol dire che È una roba Diffusissima Eccetera Nel momento in cui hai L'esclusiva Di una cosa così Non va più bene Quella cosa così Non può più essere in esclusiva Perché a quel punto Tu puoi fare Come la pesca Delle trote facilitati E quello è un comportamento Che A mio avviso Capisco che è uno Che è uno E gli hanno I meriti Delle attività predatori Eccetera Non posso capirlo Ma Io la penso in maniera di testa No, più che altro E non me ne fregando Niente del calcio Non ci arrivo Ah, no, pensavo Delle trote Vabbè No, no, trota Infatti Diciamo Franco parla solo Perché tutti e due Noi non niente Del calcio Siamo dei frattari proprio Vabbè È lì il male È lì il male Ma nel non rappresentativo Dovresti Interessarvi anche Di quello Che non vi interessa È quello il fatto Ma è complicato Gingili del giorno Molto complicato Signore e signori Gingili del giorno Gingili del giorno I regali di digitaliani Per i digitaliani Le voci digitali Selezionano per voi Hardware, software Letteratura Qualsiasi cosa Che abbia colpito La curiosità Stravolta o resistenza O qualsiasi sfumatura Nel mezzo A patto che sia roba Di attinenza Di argomento digitaliano Vediamo un pochino Michele Cosa tira fuori Dal cappello Aggiungo Visto che abbiamo Proprio concluso Parlando di streaming Aggiungo un'ulteriore fonte Per vedere In questo caso Film horror Dei anni 20 Anni 30 Quindi bianco e nero Fear The home of horror Canale youtube E stanno caricando Stanno caricando Settimana dopo settimana I grandi classiconi Tipo Frankenstein La sposa di Frankenstein La mummia L'uomo invisibile I primi Gli originali Quelli da cui poi Hanno fatto tutti Tutti i remake Gratuiti Perché sono È un canale youtube Come fosse quello Di digitalia E la cosa ancora più bella È che È gratis in tutto il mondo Tranne che negli Stati Uniti Credo per l'unica Prima volta nella storia Possiamo usufruire qualcosa Di cui non possono Usufruire gli americani Niente Lo trovate Lo trovate su youtube Iscrivetevi E seguitelo Perché appunto Oltre ai film Poi ogni stato pubblicano Delle pillole Vi fan vedere Un po' Di la storia del film La comparazione Con i remake Molto molto interessante Se appunto Siete appassionati Di un certo tipo di cinema Purtroppo L'algoritmo di compressione Di youtube Su bianco e nero Fa schifo Quindi La La qualità Non è eccellente Però è più che guardabile Più che guardabile Max tocca a te Fin dai tempi più remoti Di digitalia Ha acheggiato nel web Il mio grido Skynet Skynet Ve lo ricordate tutti E' il momento Di una dimostrazione Scientifica Dei pericoli Che ci sono Dietro le intelligenze Artificiali E quindi Vi voglio citare Come gingillo Insomma E' un gingillo Un po' difficile Da maneggiare Però è stato recentemente Riedito Su una importante Rivista scientifica Un articolo Che era uscito Un po' di tempo fa E che è disponibile Su Arx Non mi ricordo mai Come si pronuncia Arxive Punto org Si intitola Superintelligence Cannot be contained La superintelligenza Non può essere Controllata E quest'articolo Spiega In maniera assolutamente Scientifica E utilizzando La teoria Della computabilità Perché non è possibile E' scritto In maniera tale Che Ovviamente Particolarmente Bello Divertente Da apprezzare Per chi Ha fatto studi Di informatica Di un qualche tipo Ma Anche per chi Non li avesse fatti L'introduzione Della problematica Con tutto quello Che c'è dietro Con una breve E semplice Riflessione Sulla macchina Di touring Secondo me E' uno di quegli Argomenti Digitaliani Che possono Piacere tanto E quindi Ve lo raccomando Per completare La vostra Biblioteca Digitaliana Superintelligence Cannot be contained Fantastico E' un fondamentale Anche questo Ne abbiamo parlato Un miliardo di volte Abbiamo letto I commenti Di un mucchio Di personalità Allarmate Avere Qualcuno Che faccia ricerca In campo scientifico Su questi argomenti E' sicuramente importante E molto interessante Ultimo Gingillo del giorno Oggi siamo tutti appassionati Dei nostri Gingilli Che ci permettono Di collegarci A internet Smartphone Tablet Computer Eccetera E diamo per scontato Di essere sempre Collegati E sempre in grado Di comunicare E ricevere Informazioni importanti Ma in realtà Abbiamo un cordone Ombelicale Che è molto Molto corto Noi siamo abituati A vivere Nelle nostre città Sì Sulle nostre Montagne Finché stai Dove ci sono Gli impianti Di sci E robe del genere Il nostro telefonino Riceve un po' Dappertutto Ma specialmente Chi va per mare E' abituato A tenere conto Che appunto E' un cordone Ombelicale Molto molto corto Che appena ti allontani Un po' Si rompe Basta fare una traversata A partire da Liguria Andare verso la Corsica Che quando sei Quasi a metà Anzi Molto prima di metà strada Perdi il segnale E non c'è verso Ti senti completamente Tagliato fuori dal mondo E devi iniziare A riutilizzare Altri strumenti Per avere ad esempio Le semplici Trasmissioni meteo Che se sei su una barca vela Possono anche Fare la differenza Tra la vita e la morte Ebbene Questo articolo Che vi linko E' interessante Perché vi spiega Come potete continuare A usare La tecnologia Il vostro telefonino Per ricevere Segnali Che portano Le informazioni Sul meteo Anche quando siete In mezzo al mare Utilizzando Quello che hanno sempre fatto I marconisti Sulle navi Facendo Affidamento Alla radio Quella che arriva Anche veramente A centinaia di miglia Di distanza La radio A onde corte Si chiama SSB Single side band Dove ci sono Abitualmente Trasmissioni Relative Al meteo A condizioni meteomarine Eccetera In voce Ma soprattutto Anche in dati E ci sono Delle applicazioni Che utilizzando Semplicemente Il microfono Del telefonino Ricevono Questi stream Di dati E ve li Interpretano E poi vi fanno Vedere a schermo Le previsioni A testo Con anche Le carte meteo Una roba Molto di nicchia Non ci servirà Assolutamente mai Ma sono sicuro Che ci saranno Digitaliani Curiosi Di andare a capire Come funzionano Queste cose E anche a Provarle E poi ci sarà qualcuno Che magari Ce n'ha bisogno Davvero Perché non è Esattamente la cosa Più lontana Dell'universo Avere un amico Che ti dice Ma guarda È agosto Bel tempo Devo portare Una barca In Sardegna Ce l'ho A Lavagna A Genova A Rapallo È una vacanza Vieni a farti Tre giorni di navigazione Con me Perché no Fate anche i figli Gli fate vedere Che ricevete il meteo Anche in mezzo Al canale di Corsica Quando lui Deve stare lì E attaccarsi Al 76 Al 78 Non mi ricordo Sul VHF Per ricevere Meteomar Con questo Chiudiamo i Gingili del Giorno Vi ricordo che li trovate Sul sito Digitalia.fm Slash Numero La puntata Quindi Digitalia.fm Slash 557 Trovate tutti i link Alle notizie Di cui abbiamo parlato Ai Gingili del Giorno I sistemi Per pagare Per Per Diventare Produttori esecutivi E ringraziamenti Ai produttori Esecutivi Stessi Me ne sono dimenticato prima Adesso Giulio Quella prima volta che viene Giulio Coppini Mi tira le orecchie E così Stellinatici Ricordatevi di metterci Le recensioni Da qualche parte Giulio dice Sì ma non tutti arrivano Alla fine della puntata Poi quelli che sui studi Li perdiamo Eccetera Ecco allora Fatemi un piacere Perché se no Giulio mi tira le orecchie Lasciateci qualche recensione In giro Per il web Io ne ho Ce ne ho un paio carine Ve le leggiamo in diretta Magari la prossima puntata E quella dopo Se ne mettete di belle Mettiamo Leggiamo anche la vostra Così potete lasciare I saluti Alla mamma E noi li leggiamo In diretta Per voi Su iTunes Su qualsiasi Directory di podcast Fateci sapere Dove lasciate la vostra recensione E quelle su iTunes Ci arriva la notifica In automatico Direi che per questa sera è tutto Dalle mie studi Ligure 1 di Sanremo Un saluto da Franco Solerio Dallo studio cittadino Di Avellino Un abbraccio da Massimo De Santo E dallo studio di Milano Un ciao da Michele Di Maio Ci sentiamo la settimana prossima Con una nuova puntata Di Digitalia Ciao a tutti Okay Grazie a tutti. Il post del Pueblo Unido. Che Max sarà vensito. Max sarà vensito. Che Max sarà vensito. Siete divertenti. Ho, ho, ho. Dai, continuiamo sulla scia dei contenuti streaming. Facciamo un giro di tavolo cosa state vedendo. Di streaming? O in VHS, non lo so. X-Files. Per cui siamo quasi buon caso. Io sto facendo una cronologica di Star Trek. La prossima che faremo è quella. Perché a Eloisa Star Trek è piaciuto. Abbiamo visto ovviamente l'ultima serie di Voyager. Sì, Voyager. Che secondo me è una cagata pazzesca. L'ultima serie. Ah, l'ultima, la settima stagione? No, la settima. No, Voyager. Voyager. No, Discovery. No, Voyager. Discovery. L'ultima. Voyager è quello con Giacomo. Ci va a capra. L'ultima, Discovery. Non l'ho vista ancora. La terza stagione. Mi l'insame, l'insame, l'insame. L'ultima puntata è l'unica che è un po' decente. Ma tutta la stagione è vero. L'hanno rovinata loro. L'hanno rovinata loro. Mi dispiace, Max. L'hanno rovinata loro. Però sì, siamo arrivati alla fine della prima stagione di X-Files. No, Fabrizio è su Prime. Su Prime Video. Enermeyer Flask. E cacchio, ce lo stiamo godendo da matti. Qual è? Enermeyer Flask. Eh, non mi è il titolo. Ma sì, è famosa. È la puntata quella che ci sono tutti i... tutti i cloni dei tizi nella vasca. Lui entra in questo deposito. Ci sono quattro o cinque acquari con un essere umano attaccato. E poi lei, per salvarlo, siccome lui viene... Ah, sì. E becca il feto alieno. Sì, sì. Poi viene ucciso Deepthroth. Il secondo Deepthroth. Il primo Deepthroth. Alla fine della prima stagione. Ah, penso che lo dò un po' prima. Sì, il primo. Il secondo è... Spoiler, spoiler. Eh, certo. Spoiler di una cosa di vent'anni fa. Mi sembra da... Trento. Magari vent'anni, esatto. Perfetto. Perfetto. Dopo trent'anni ci sentiamo in diritto di spoilerare. Io sono alla fine della seconda stagione di Lost. Oh, signore. Davvero, no? Live together, die alone. Ti prego. Parte 1 e parte 2. Mamma, la prima di Lost. So che sta arrivando. Diciamo che Lost, chiunque l'abbia visto e finì in fondo, dice, è una cagata totale. Ma in realtà era una gran bella cagata. C'è in me due e tre stagioni. Ma quando... Era molto bello. La prima stagione... Molto intrigato. L'uomo di scienza e l'uomo di fede in poi ci ha veramente lasciato un po' con le palle a bagno maria. Live together, die alone. Bellissimo. Però... Sì, sì. Tanta roba. Tanta roba. Ragazzi, pure Fringe la quinta stagione. Alla prossima stagione è Desmond, è la seconda, no? No, no, perché Desmond arriva alla fine della prima stagione, quando entra nella botola. Non all'inizio della seconda entra nella botola, alla fine della... No, no, no. All'inizio della seconda, a fine della prima. All'inizio della seconda. Alla fine della prima è la botola, ma ci entrano all'inizio della seconda. Sì, sì, le prime due e tre. Sì, no, io sono alla fine della seconda, quando Desmond in realtà è tornato. Alla fine della seconda, sì. Quando Desmond... Che comincia con Your Own Count of Music. La prima della seconda è quella dei Mamas and the Papas, che quando entrano con l'inquadratura nella botola... Storica, storica. Era nel 2005, chi se lo scorda. E vabbè. Che roba. Bene, sì. E poi che altro stiamo guardando? Noi stiamo... Grazie da vedere The Boys. No? Non conosco. Molto bella, molto bella. Mi piace The Boys. A me le prime quattro puntate abbiamo visto, è molto, molto bello. Abbiamo iniziato a vedere la seconda serie di Secret City. Ah, Secret City lo tengo da parte, che me lo devo... La prima è bellissima, meravigliosa. La seconda... Vediamo. Non è malaccio, ma non è ancora... Non è ancora... Non ha ancora messo il turbo. Non è decollata. Ma do le maniche dei vestiti di Molder e Skelly, ma ancora più le maniche, le spalline, le spallone, le cofane in testa. È così, è così. È difficile. Sono quelle cose che in un remake non le puoi riprendere. Però fidati, fidatevi. Guardate X-Files, perché siete avanti più di tutti. Perché adesso va di moda i remake degli anni Ottanta. e tra dieci anni andranno di moda i remake degli anni Ottanta. Allora, diamiamo avanti. Se voi li guardate adesso, siete dieci anni in avanti. Sto facendo il re... Marco Pasqualotto, il re-watch di Mad Men, che direi ci sta sempre. Ha appena attivato la trial gratuita di Starplay, dobbiamo fare un promo code di Starplay. Bezos, dacci qualcosa. Dacci qualcosa. E' la terza stagione, però non abbiamo ancora iniziato a guardarla. E poi stiamo guardando Upload, che è carinuccio. Carino. Non è male, digitaliano carinuccio. E Undone. Undone è una serie di Amazon. Quello con Hugh Grant. No, quello con Saul Goodman, di fatto, come si chiama l'attore. E' una serie cartonata. Sai quelle serie... Hai presente come hanno renderizzato quella di... Come si chiamava il racconto di Philip Dick? Io sono vivo, voi siete morti? Vabbè, comunque ho capito la tecnica. Quella in cui ci sono attori del verbo che poi vengono ridisegnati. Non è male. Undone si chiama. Bobo o Denki. Undone. Cioè, disfatto. Giusto? Disfatto. Caromax è ricominciata di nuovo The Expanse. Ah, ma io non ce la faccio. C'è troppa roba. Ah, The Undoing è quella di HBO. Scusate. Ah, no, questa è Undone. La verità mele sta guardando The Office, che ci sta sempre. Io ho guardato troppa televisione, ragazzi. Io leggo, come se no, come vorrei, a proporreggere questi cacchi di libri degli italiani. Quindi io leggo come un pazzo. A televisione ne sto vedendo un po'. Tre serate alla settimana facciamo, direi. Tre le quattro serate di... Cosa con una puntata serata, tranne forse il sabato, che riusciamo a vederne due. Però, piano piano. Va bene, cari. Max, vai a leggere. La prosperità, che siamo un po', abbiamo spolato un pochino. 23.02, da... Un saluto a tutta la community, dei nostri ascoltatori ancora del post-trasmissione. Giusto? Siamo ancora online. E li salutiamo adesso. Ciao, ciao, buonanotte.